Quindi di una relazione in ogni caso. E quindi vedete, se voi fate un confronto con il modo asettico di procedere che si ha in questo campo, lasciate perdere Batman, il gioche, togliamo tutto, va bene? Pensate a una cosa anche più semplice, però al fatto che tu entri nel momento in cui tu apprendi, nel momento in cui tu entri in un parco evidente, ma nel momento in cui anche tu apprendi, quindi c'è qualche cosa di non concreto, di astratto, tu entri in un ambiente. Perché entri in un ambiente? Beh perché l'ambiente è determinato dalla relazione dei personaggi e delle cose che ci sono all'interno di questo ambiente. Non esiste ambiente senza relazione. Perfino un ambiente che non esiste nel nostro pianeta, senza forme viventi, immaginiamolo, un ambiente senza forme viventi, d'accordo? Ma quell'ambiente via delle relazioni, non perché i sassi si parlano, ma perché ci sono smottamenti, perché ci sono influenze climatiche, tutto quello che si vuole, no? Queste relazioni formano l'ambiente e questo è quello che mi insegnate voi, d'accordo? Però estendete questo concetto al fatto che nel momento in cui abbiamo a che fare con due soggetti, è un ambiente, due soggetti si incontrano al caffè, è un ambiente, il caffè, per strada si incontrano per strada. La relazione cambia, cambia e l'ambiente, cioè quel caffè e quella strada, non sono più quel caffè e quella strada, sono un altro ambiente, perché quei due soggetti interagiscono. Per esempio, negli anni 50, negli anni 60, Levi Strauss pubblicava un saggio molto interessante, un saggio molto interessante con il quale contestava alcune indagini antropologiche per il fatto che i personaggi oggetto di queste indagini erano a loro volta stati contaminati dalla civiltà e quindi non potevano queste ricerche essere trattate come... Per esempio lui diceva, anche il semplice fatto di aver visto un aeroplano, non dico che l'uomo bianco sia andato da queste popolazioni primitive e quindi abbia avuto un contatto, ma diciamo solo l'aver visto a 3.000 km d'altezza volare un oggetto. Questo cambia, cambia, tutta la cosmogonia religiosa, mistica, metafisica, eccetera, di quella determinata tribù. Ed è un'influenza diretta della civiltà occidentale nei confronti e quindi l'antropolo non può andare lì pensando che trova l'uomo primitivo. Non esiste. Non esiste questo. E questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che quell'oggetto che è passato a 900 km all'ora di velocità, eccetera, è diventato parte integrante dell'ambiente. E l'ambiente è cambiato. Ora, se noi pensiamo che nel momento in cui noi trattiamo con un nostro gruppo di 12 ragazzini che portiamo in escursione al parco, o di 25 allievi in classe, o di 50 persone online, come se non esistesse un ambiente relazionale, noi sbagliamo. Sbagliamo e facciamo qualcosa che va contro l'insegnamento, va contro l'apprendimento e la divulgazione. Perché alla fine, divulgare, poi oggi lo vedremo, oggi sarà estremamente chiaro questo, perché divulgare non è un meccanismo insegnare, mostrare, osservare, non è un meccanismo, diciamo così, ingegneristico che si applica e che qualcun altro poi deve osservare secondo determinate regole. Deriva proprio dalla costruzione di una relazione che lo supporta. Anzi, non solo, vi dirò un'altra cosa, che è chiaro nella costruzione dell'ambiente di Gotham City. Perché? Perché, diciamo, abbiamo ideato questo sistema, poi ne parleremo, tra, non adesso, ma tra un paio di settimane cominceremo, cominceremo anche ad analizzare quello che abbiamo fatto e perché lo abbiamo fatto. Adesso è prematuro, perché la storia è in corso, la stiamo vivendo, quindi, ma... Però intanto vi anticipo questo. Perché proprio un ambiente così caratterizzato? No? Per quale motivo? Poteva essere Gotham, potevano essere i pirati dei Caraibi, altre volte l'ultimo che abbiamo messo in piedi è stato all'epoca degli antichi greci, con le muse. a Delphi, quindi un ambiente di quel genere. Ma perché un ambiente, in ogni caso, così caratterizzato? Beh, sentite quello che vi dico adesso. Perché c'è una battaglia in corso per acquisire le persone dentro l'ambiente. Io vi devo strappare dal vostro ambiente, dal vostro ambiente casalingo, di lavoro, io vi devo portare nel mio, perché io vi devo insegnare qualcosa. E io voglio che voi siate con me, e non voglio che siate contemporaneamente in due o tre ambienti. Io voglio l'esclusiva, e quindi voglio occupare i vostri pensieri. Voglio che voi pensiate a quello che dovete fare per studiare, lavorare, imparare, ispirare, essere ispirati all'interno di questo processo di apprendimento. E quindi è in corso una battaglia. Ed è in corso una battaglia tra ambienti. E l'ambiente e lo storytelling game è vincente. È vincente perché voi siete lì, che non potete non pensarci. Anche se non volete pensarci, non potete non pensarci. Quindi io ho vinto la prima battaglia, che è quello di avere i miei corsisti, i miei studenti con me. Ed è la prima cosa di cui qualsiasi insegnante e formatore si deve occupare nella sua vita. Di avere con sé i propri apprendenti. E questa è una battaglia. È una lotta che deve ingaggiare. È una lotta contro chi? È una lotta contro l'ambiente esterno, la famiglia, non so, quello che volete voi, no? I videogame, non so, il disinteresse, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché abbiamo attribuito così tanta importanza al benvenuto. Ed ecco perché il gioco era andato giù così pesante. Perché non capire questo è grave. Ma non dico che voi dovete capirlo, no? Siamo qua per spiegarvelo, quindi questo è chiaro, no? Però una volta che è stato spiegato è grave non capire questo. Cioè un insegnante, un formatore, un divulgatore che non si occupa di questo è grave. È grave perché significa che rinuncia a questa battaglia. E voi pensate che, non lo so, certo, dieci anni fa, vent'anni fa, forse non ci sarebbe stato bisogno di condurre questa battaglia. perché, perché, diciamo, gli ambienti esterni erano, forse non erano così attraenti, erano diversi, erano minori sicuramente, ma oggi, oggi ragazzi hanno a che fare con, hanno a che fare con degli ambienti incredibili che andranno sempre, saranno sempre, diciamo, avranno sempre un appeal particolare e si moltiplicheranno. Voi pensate a tutti gli ambienti di realtà virtuale. Non sottovalutate questi processi, perché oggi sono all'inizio, ma non sottovalutatevi. Quando i vostri studenti o corsisti saranno lì con i visori connessi contemporaneamente a due o tre ambienti, perché questo è il futuro. E non è che voi potete dire mi piace o non mi piace. Ognuno può esprimere le sue opinioni. Io le ho scritte nel 1996 in un libro che adesso ho ridistribuito gratuitamente. Se volete lo potete trovare, l'ho comunicato in giro, adesso non mi ricordo, ma comunque. E sono riflessioni molto attuali che puntualmente si sono verificate a vent'anni di distanza. Quindi la pericolosità della seduzione, stiamo proprio parlando di seduzione, di questi ambienti è grave, ma al di là del fatto che sia grave, comunque è qualcosa che nel futuro leggevo all'interno di forum che qualcuno aveva scritto proprio una cosa del genere. Cioè aveva scritto che ha a che fare spesso con persone annoiate, è difficile catturare l'attenzione, anche se sei in mezzo alla natura e vedi delle cose meravigliose o ti spiegano delle cose fantastiche. Cioè se perfino la natura non ha più la pille, l'attrazione che potrebbe avere, voi pensate che deriva, che piega, possono prendere le cose di qui ai prossimi vent'anni. Parliamo di un periodo in medio di tempo, ma vediamo cosa succederà tra vent'anni. Quindi ci dobbiamo occupare di questo, ci dobbiamo occupare e dobbiamo entrare nel campo della seduzione. Sì, l'insegnante e il formatore seduce, è un seduttore. Ma non è un seduttore alla Andrea Sperelli o alla cosa là, come si chiama quello veneziano, Casanova, eccetera, no? Non è quel seduttore lì. Cioè non è un seduttore nel senso di exducere, cioè portarti fuori dal tuo terreno a farti perdere la testa e quindi manipolarti. Non è quel seduttore lì. È un seduttore, diciamo, da un punto di vista, come dire, estetico, della bellezza di quello che ti presenta, dell'interesse che è in grado di suscitare in te. Ecco, è il sapere, la cultura che ti seduce. Ora, pur essendo a contatto della natura in modo diretto, voi oggi avete bisogno di questa mediazione, perché questo contatto diretto non è più sufficiente. Voi pensate che quando era in galera, Antonio Gramsci, che era stato un intellettuale italiano molto importante, fondatore del Partito Comunista, ma sono qui per parlare di politica, lui è stato un grande intellettuale e in galera, in carcere, è stato incarcerato dal fascismo, ha scritto i famosi quaderni del carcere e uno di questi quaderni è dedicato alla pedagogia, alla didattica, a varie riflessioni molto interessanti. Pensate che lui scriveva questo, a sua sorella, che gli parlava di suo nipotino. diceva, ma come? Gli hanno regalato un meccano, attenzione, un meccano, sapete cos'è il meccano, no? Quell'affare con tutti i bulloni, no? Si costruiva il meccano, no? E Gramsci cosa diceva? Diceva, voi gli avete regalato un meccano, ma io, ai miei tempi da bambino, andavo lungo il fiume con un bastoncino di legno, mi bastava questo. Perché il meccano? Cioè, già lui all'epoca vedeva il meccano come qualche cosa che creava un diaframma fra lui, fra il bambino e la natura. E diceva, ma questo crea un ostacolo nel rapporto diretto con l'esperienza. Ora, ne è passata di acqua sotto i ponti, altro che meccano. Cioè, noi abbiamo molto di più di un meccano oggi. quindi la battaglia per avere i propri apprendenti non può essere condotta nello stesso modo. Non può essere condotta pensando che sia bello prendere un bastoncino e giocare lungo il fiume, perché non è così. Voi ricevete nel parco delle ragazzine che vengono con le scarpe a ginnastica nuove appena comprate e che non vogliono sporcarsi i piedi. Le scarpe, vero o no? Non vogliono sporcarsi le mani, ma voi non dovete affrontarle, bisogna inglobarle. Quindi va preparato un terreno affinché anche la ragazzina con le scarpe nuove possa fare la sua passeggiata e la sua ricerca nel parco. Va studiato. Tutto questo sistema si chiama benvenuto, si chiama accoglienza. In che modo voi accogliete le giovani generazioni di oggi che sono così difficili da diciamo conquistare determinati temi. Questo è il tema che è stato posto a Gotham. È il vero diciamo sottotesto della storia che abbiamo avuto nel capitolo numero uno. Questa è la vera questione che è stata posta. E questa è la questione alla quale voi dovete dare una risposta o cercare di darla o insomma trovarla insieme. Ma comunque va affrontato questo problema. va indiscutibilmente affrontato. Va bene, penso che abbiamo fatto una piccola chiacchierata di bilancio poi abbiamo modo poi di discutere tutto. Adesso io direi proprio di affrontare il tema. Siete tutti stati inseriti nei gruppi nei due gruppi dell'orto botanico e del Central Park. In redazione ci sono grandi discussioni su come affrontare il prossimo. Perché ripeto, i contenuti sono pronti per essere erogati. ve li potrei buttare lì tutti stamattina, cioè stasera non c'è problema, ma il modo con cui verano qui è fonte di discussioni. E quindi adesso vedremo che cosa succederà. Quindi preparatevi, preparatevi anche ad eventuali cooperazioni o mini cooperazioni, mini gruppi, eccetera. e attenzione alle sfide del capitolo numero due che sembrano semplici perché sono tutte sfide testuali. Oggi non facciamo niente di straordinario con la tecnologia o con non impiegare. Poi il capitolo terzo e quarto saranno impegnativi anche da quel punto di vista lì. Nel capitolo tre affronteremo il discorso invece della divulgazione attraverso immagine, eccetera, che anche lì è abbastanza complesso. Oggi ci limitiamo a proprio la scrittura, al testo. Però vedrete che lo faremo in un modo assolutamente originale, ma non per essere originali perché vogliamo trasmettere alcuni contenuti e lo possiamo fare solo in un certo modo. Quindi se siamo pronti io condivido a dunque vediamo un po' chi c'è c'è Monica Angela vediamo se c'è qualcuno qua che mi può dare una mano a chi posso passare? E me Alberto ci sono Angela dove sei? Sei lì? Ah ecco senti no sei tra tutte queste cose senti ti passo le chiavi di co present co co ma dove sei? Ah sei qua ecco ti ho trovato ecco allora ti passo le chiavi di co organizzatore in modo tale che quando appare la scritta ammetti tu puoi ammettere le persone va bene perfetto la registrazione è avviata me ne sono ricordato io stranamente e condividiamo lo schermo eccoci qua pronti comunicare versus raccontare teoria tecniche e sfide avete un quaderno degli appunti potete prendere qualche appunto pronti con il computer abbiamo qualche elemento interattivo e cominciamo allora cominciamo dalla teoria della comunicazione ma una teoria che riconsideriamo sotto diversi punti di vista e cerchiamo di farlo sviluppando questo discorso prima di tutto ci chiediamo chi è il referente di un messaggio bisogna sempre partire da questo nel momento in cui voi esprimete un messaggio vi dovete chiedere chi è il referente di questo messaggio ma attenzione il referente non è il target è un'altra cosa il target sapete 8 anni 8 14 anni 14 16 ultra sessantenni laureati questo è il target invece il referente di un messaggio è l'oggetto a cui del messaggio stesso e la prima cosa che noi facciamo è distinguere tra messaggi poetici e messaggi referenziali questa è la prima cosa che potete scrivere nei vostri appunti una distinzione tra un messaggio poetico e un messaggio referenziale anzi facciamo così noi tracciamo una linea una linea di demarcazione netta tra tutto quello tra tutti i messaggi del nostro pianeta tutti i messaggi di qualsiasi tipo del nostro pianeta noi li dividiamo in due messaggi poetici e messaggi referenziali oppure potete scrivere messaggi auto referenziali e messaggi referenziali perché? perché il messaggio poetico è un messaggio auto referenziale eccolo qua l'abbiamo scritto qui il messaggio poetico è auto referenziale cioè cosa vuol dire auto referenziale? beh prima di tutto consideriamo che auto referenziale è una brutta parola è una parola che per esempio agli insegnanti hanno spiegato da decenni che non è una bella cosa l'insegnante non può essere auto referenziale poi l'hanno spiegato un po' a tutti ma com'è? ma sei auto referenziale cosa vuol dire? è auto referenziale invece noi riscopriamo il valore incredibile di questo termine noi vogliamo essere vi dirò di più proprio questo noi vogliamo essere auto referenziali perché? perché noi partiamo dalla poesia il messaggio poetico è auto referenziale che cosa vuol dire che il messaggio poetico è auto referenziale? vuol dire che si riferisce essenzialmente a se stesso alla sua stessa struttura e per questo motivo è reinterpretabile e non è soggetto a consumo cioè il messaggio poetico si riferisce a se stesso non a qualcosa d'altro si analizza in sé che si parli della guerra di Troia alla fine è un fatto secondario perché quello che conta è l'amicizia tra Achille e Patrocolo per esempio il valore della bellezza di Elena eccetera eccetera oppure che Leopardi parli di una siepe conta poco perché l'oggetto della poesia che è l'infinito non è la siepe perché se Leopardi avesse voluto parlare della siepe avrebbe scritto un saggio avrebbe scritto un saggio sulla siepe invece che sia una siepe una staccionata un muro un muro della periferia urbana di non so quale metropoli o un canneto di di tribù australiane non cambia nulla perché quella poesia non parla della siepe il messaggio poetico è un messaggio autoreferenziale parla a se stesso quello che conta è la sua struttura e quindi ciò che evoca e cioè tutti tutti gli argomenti contenuti riflessioni eccetera che evoca quindi vedete che i messaggi autoreferenziali sono al primo posto come livello qualitativo di comunicazione e non all'ultimo e qui diamo una botta alla comunicazione di massa perché tutti ci dicono sei autoreferenziale caspita se tu fossi autoreferenziale davvero saresti un poeta saresti un artista la gioconda è il ritratto di quella donna lì ma non sappiamo neanche chi sia non è quella la questione il messaggio poetico è autoreferenziale quindi noi distinguiamo tra tutto quello che viene comunicato distinguiamo due tipologie di messaggi quelli autoreferenziali cioè che vanno verso la poesia e tutti gli altri che hanno un referente e tutti gli altri che referente hanno come si potrebbero chiamare beh noi li chiamiamo i messaggi pubblicitari hanno un referente esterno e rappresentano la gran parte dei messaggi quindi per semplificare dividiamo il mondo in queste due categorie tra messaggi poetici e messaggi pubblicitari referenziali perché? perché i messaggi referenziali hanno appunto un referente che è un oggetto preciso fanno il contrario del messaggio poetico esattamente il contrario cioè loro ti possono parlare dell'amore ma in realtà ti vendono una scopa elettrica Leopardi ti parla della scopa elettrica ma invece in realtà ti parla dell'amore è esattamente il contrario gli uni sono dei messaggi costruttivi che spingono avanti l'umanità i suoi sentimenti e le loro relazioni gli altri no gli altri sono dei messaggi invece distruttivi nel senso che utilizzano i sentimenti le emozioni le relazioni eccetera per bisogni di marketing sono subdoli vi faccio un esempio vedo Lella Rossetti che guarda interessata immagino che Lella Rossetti abbia avuto dei figli nella sua vita no? penso giusto? quando lei parlava ai suoi figli gli raccontava la favoletta della buonanotte senza bisogno che Lella Rossetti fosse una poeta ma quel messaggio andava a scritto nell'insieme dei messaggi poetici questa è la differenza quindi stiamo parlando di linee di tendenza quindi una linea di tendenza verso la poesia e una linea di tendenza verso la comunicazione la pubblicità la comunicazione spicciola a volte questi due insiemi si intersecano perché le cose poi nella vita non sono bianco o nero chiaramente però adesso noi le categorizziamo invece in bianco o nero perché? perché questo ci aiuta a capire come stanno le cose una volta che abbiamo capito qual è la differenza tra un motore elettrico e un motore a benzina poi possiamo avere anche un'auto ibrida ma se noi partiamo dal capire che cos'è un'auto ibrida non riusciamo a capire né che cos'è il motore elettrico né con la benzina quindi per adesso noi dobbiamo ragionare così messaggi poetici distinguiamo la poesia da tutto il resto anzi distinguiamo gli elementi poetici da tutto il resto vediamo la seconda colonna dice il messaggio pubblicitario invece è referenziale cioè si riferisce a un oggetto esterno e dunque si consuma con l'uso attenzione questo è fantastico il messaggio pubblicitario cioè tutto ciò che è referenziale che non è autoreferenziale ma è referenziale cioè si riferisce a un oggetto si consuma si consuma con l'uso e beh certo perché io quando ho letto mi hanno detto 50 volte che devo fare una determinata cosa poi questo messaggio non mi interessa più mi incuriosisce la prima la seconda la terza poi basta è finito lì è consumato si consuma non lo ascolto neanche più pensate a quante volte voi ripetete le stesse cose magari in classico non fa ma non vi ascolto neanche più perché sono cose trite ritrite non c'entra il fatto che vengano messe in pratica o meno c'entra proprio il tipo di messaggio è un messaggio funzionale serve uno scopo fine basta si consuma viene percepito come superato ecco perché per esempio la pubblicità deve cambiare sempre se no qual è il messaggio pubblicitario il messaggio pubblicitario è uno solo uno uno il messaggio poetico è infinito infinito ma il messaggio pubblicitario è uno solo ed è compra questa cosa questo è il messaggio poi viene declinato in 50.000 modi diversi ma è uno è uno il messaggio poetico è infinito infatti noi prendiamo una tragedia di Sofocle e diciamo porca vacca come è attuale come come è attuale è stata scritta 2.800 anni fa perché? perché il messaggio poetico è reinterpretabile guardiamo carosello e diciamo ah simpatico ah come ero giovane quando c'era carosello finisce lì finito è un messaggio consumato il messaggio poetico no perché è autorreferenziale non si riferisce a un oggetto e siccome non si riferisce a un oggetto non si consuma con l'uso di quell'oggetto perché io uso quell'oggetto compro la candeggina uso la candeggina basta non ho più bisogno del messaggio che mi ripete in continuazione e devo comprare è finito si consuma con l'oggetto se Leopardi ci avesse spiegato che cos'era la siepe e noi oggi non leggeremmo Leopardi perché tutti sanno cos'è una siepe ma siccome è autoreferenziale cioè prescinde dall'oggetto noi continuiamo a reinterpretarlo quindi 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 il messaggio poetico è sempre attuale da qui discende una conclusione incredibile se voi mettete della poesia in quello che fate quello che fate è attuale è semplice è semplice vi basta studiare da poeti cosa ci vuole no? potete scegliere diventare Montal Erzapal non lo so io ho anche cantautori Dylan eccetera no scherzo ovviamente però è chiaro il senso di quello che vi sto dicendo vediamo un esempio concreto questa è la pubblicità è una fotografia che io ho tratto da una locandina pubblicitaria che si chiamava vacanze cortina d'ampezzo punto numero uno io non so neanche se questa sia cortina d'ampezzo perché perché quando si crea una pubblicità di questo genere ha poca importanza prendere proprio l'immagine a cui si riferisce no? però diciamo che potrebbe essere cortina d'ampezzo è chiaro il messaggio tu vai a cortina d'ampezzo per fare cosa? per usare lo snowboard no? per divertirti adesso associate questa immagine a una poesia di Emily Dickinson che dice montagne care voi non mi mentite non mi mandate via né mai fuggite beh stona un po' no? è vero o no? che mi dite? questa immagine può realmente rappresentare questa poesia? non la può rappresentare questa poesia perché? perché l'immagine ha un referente preciso che sono dei turisti questi sono chiaramente dei turisti e allora facciamo questa prima operazione vi lancio una sfida prendete questa immagine che io adesso vi metto adesso vi metto questa questa immagine nella chat e voi la potete quindi utilizzare nel modo che vi spiego ok adesso prendete prendete questa immagine e vi recate qui lo potete fare tramite QR code o tramite il link se volete ve lo sistemo se avete difficoltà a utilizzare la Jamboard così diciamo a un passato vi insegno un'altra cosetta se non la conoscete che è uno strumento di lavoro che possiamo utilizzare insieme potete invece depositarla depositare l'immagine in questo deposito vi lascio il link nel deposito eventualmente quindi lo scrivo qua sempre nella chat link al deposito di Dropbox quindi avete due possibilità o utilizzate il QR code per accedere a questa Jamboard oppure mettete l'immagine nel deposito che cosa voglio fare con questa immagine ma veramente in 5 minuti e non perdiamo proprio grande tempo io voglio che voi usate questa immagine e nessun'altra nessun'altra e la trasformiate in qualsiasi modo per renderla più adatta a rappresentare la poesia questo verso di una poesia di Emily Dickinson qualcuno scriveva nella chat che potrebbe essere anche una foto ricordo certo si può anche essere associata a una poesia certo ma non è una buona associazione quello che noi qui oggi impariamo è a realizzare delle buone associazioni quindi questa immagine associata a questa poesia vedrete che non è una buona associazione vi insegno a fare un'operazione un'operazione che renda meglio questo tipo di associazione perché perché essere autoreferenziali non significa essere soggettivi cioè seguire la propria soggettività ecco vedo che voi avete siete entrati nella gemboard benissimo e qui voi potete creare le vostre lavagne qui potete inserire nella vostra lavagna le lavagne che create qui in alto potete inserire questa l'immagine che avete modificato in qualche modo scusami sono imbranata cliccando sul link al deposito mi si è aperta una finestra che dice che se entro lì esco dalla riunione giù devi aprire un'altra finestra allora devi aprire una finestra diversa sì prova quindi o con questa soluzione oppure attraverso al al deposito di dropbox voi potete inserire l'immagine modificata 5 minuti mi basta così averne 3 o 4 in modo che si possa ragionare un secondo ma modificata usando un programma di grafica ma guarda quello che vuoi non è mica bisogna prendere photoshop una cosa qualsiasi per fare l'operazione che siete in grado di fare secondo voi e che potrebbe migliorare la cosa così ci ragioniamo su direttamente io sono sempre imbranata ho cliccato aprendo la finestra però mi dice la ricerca di quel link lì non ha prodotto risultati la ricerca di quel link non ha prodotto risultati sì questo è strano sai beh detto così non saprei esattamente cosa dire niente e diciamo adesso non posso darti una mano così però se poi magari ci sentiamo posso studiare meglio la questione intanto eccolo qua allora intanto nel deposito di dropbox anche ho ho delle immagini quindi qui è stata inquadrata dentro un frame in sostanza vedete qui è stato ritagliato è stato ritagliato allora già inquadrarla dentro un frame guardate così è stata inquadrata no questa è l'immagine originale forse quella che vi ho dato io però è interessante già inquadrarla dentro un frame è già qualcosa poi certamente questo questo è interessante è buono è una buona cosa questa abbiamo tolto il soggetto ma rendiamoci conto che nel momento in cui c'è un testo c'è anche un soggetto che lo scrive il testo quindi è implicita la presenza di un soggetto nel momento in cui io leggo montagne care voi non mi mentite significa che qualcuno sta dicendo questo quindi può essere una soluzione questa poi vediamone altre altre questa questa non vedo differenze questa di nuovo una ripresa un taglio quindi tagliare l'immagine escludere ciò che potrebbe questa invece non c'entra niente non è l'immagine che abbiamo proposto ecco questa è anche un'altra soluzione è un'altra soluzione perché perché questo nella nel nostro immaginario è come se si fosse con gli anni codificato un certo tipo di linguaggio un linguaggio che non abbiamo mai studiato e che è il linguaggio cinematografico ma abbiamo tutti un'esperienza in questo campo abbiamo tutti un'esperienza fotografica cinematografica quindi in qualche modo anche senza essere andati a scuola sappiamo che virare seppia un'immagine significa darle una patente da ricordo come una specie di flashback e il ricordo non ha a che fare con il turismo diciamo che vuole immediatamente che il turista che il soggetto spende i suoi soldi vada in montagna ha a che fare con un vissuto un sentimento quindi può essere una buona soluzione vediamone altre eccolo vedete quello che dicevo prima vedete c'è proprio una differenza ok ah qui ha aggiunto una casetta simpatica questa cosa Gloria Gloria voglio sapere perché ha aggiunto la casetta dov'è Gloria parli ora o taccia per se arrivo arrivo stavo facendo un trasferimento stanza ah trasferimento stanza e allora ho messo una casetta perché ho pensato potrebbe essere loro non sono turisti sono persone che tornano a casa in una baita giusto e quindi vedono le montagne come quelle che gli fanno compagnia insomma esatto 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 perché diciamo una cosa non è per il fatto che tu hai uno snowboard non puoi apprezzare la montagna da un altro punto di vista cioè non è la poesia non esclude l'uso dell'oggetto è chiaro no? cioè tu puoi avere piacere ad andare in montagna perché la studi perché l'ami ma puoi anche studiarla amarla e allo stesso tempo ti pidi due sci ti fai una sciata o fai o tiri palle di neve con gli amici cioè non è che deve essere sempre lo scienziato inquadrato e l'insegnante con il manico di scopo sempre la schiena no? quindi interessante buona buona cosa però vedete che cosa vi sto dimostrando? vi sto dimostrando che basta fare a volte anche delle piccole operazioni questo è molto interessante che cosa ha fatto? ha tagliato ha tagliato l'elemento che potrebbe essere confuso con appunto un uso utilitaristico della montagna che sembra stridere con la poesia e ha rappresentato un punto di vista soggettivo e questa si chiama soggettiva bene anche questa questa è una soggettiva ancora più spinta questo rientra nella scelta di rappresentare solo il paesaggio questo di nuovo la soggettiva soggettiva sono fermata forte aggiunto un testo certo aggiungere un testo come dire è una soluzione è una soluzione che spiega tutto perché nel momento in cui tu aggiungi un testo puoi fornire tutte le spiegazioni che vuoi quindi è la meno indicata però è interessante perché anche il testo fa parte della soluzione certo vediamo l'atto gemboard come stanno le cose l'atto gemboard io non riesco a entrare nella gemboard mi dice che per modificarla devo chiedere l'accesso ah sì e l'ho dato tutti sì anche a me mi sono andato a caricare a parte che avevo messo anch'io la casetta anch'io non ce l'ho fatta e quindi l'ho messa nella chat ah ok va bene allora sentite abbiamo un problema con la gemboard ma lo risolviamo perché la gemboard ci serve poi per Gotham è uno strumento che utilizzeremo quindi abbiamo avuto degli esempi mi sembra sia stato abbastanza chiaro qual è la soluzione che diciamo più economica più semplice eccetera più efficace secondo il mio punto di vista perché abbiamo visto comunque che ce ne possono essere diversi io vi propongo questa che vedete è la soggettiva addirittura in bianco e nero dà un effetto un po' più drammatico se vogliamo sono due cose molto diverse già il bianco e nero dal colore cambia radicalmente no poi l'abbiamo girata dall'altra parte e dall'altra parte perché perché voi sapete che noi sfogliamo noi in un certo modo no i libri e quindi quando lo sguardo va in questa direzione assume più un connotato di ricordo se vogliamo cioè di qualcosa che ci lasciamo indietro mentre posto dall'altra parte quindi è qualcosa che guarda avanti e dunque se io voglio rappresentare con maggiore poesia dei sentimenti è chiaro che il ricordo ha a che fare con i sentimenti e dunque si può anche invertire la direzione dello sguardo e poi come ha fatto qualcuno di voi possiamo tranquillamente tagliare tutto e tenere solo il lo sguardo del soggetto la testa perché questo cosa rappresenta? rappresenta una soggettiva molto spinta è come stare con la telecamera in mano attaccato al soggetto che entra in una stanza poi esce poi scende per strada poi sale eccetera eccetera allora adesso ritornando alla posizione iniziale che era questa che era questa noi possiamo dire che c'è un modo anche per rappresentare i sentimenti e per rappresentare ciò che ha a che fare con la poesia o che tende a essere un linguaggio poetico che non va bene tutto non va bene qualsiasi cosa ma anche partendo da qualsiasi cosa cioè abbiamo solo queste immagini non abbiamo altro siamo poveracci c'è un dato solo questa però abbiamo visto in quali tanti modi abbiamo noi per poter accostare questa immagine al al tema poetico in modo che sia che questo tema sia più percepito possibile ne metto lì qualcuno eccola qualche esempio vedete di quelli che avete proposto voi eccoli qua ti prendo a caso così giusto due o tre per farvi capire che abbiamo delle possibilità e non le possiamo ignorare queste possibilità e queste possibilità sono esattamente ciò su cui noi dobbiamo lavorare ma sono anche la cosa sulla quale spesso non si lavora infatti pensate per esempio a tutte le presentazioni le sì direi proprio le presentazioni che vengono di solito che vengono di solito realizzate e che con queste immagini a caso per non parlare poi delle clip art questi personaggini tutti i sinuosi neri che si muovono eccetera abbiamo preso qualche esempio così giusto per per mostrare ecco qui c'era anche questo che rappresenta la soggettiva poi sta a voi scegliere chiaramente però questo per dirvi che cosa che noi non possiamo mai esimerci da lavorare da lavorare sul testo da lavorare sull'immagine ma da lavorare sul messaggio e dobbiamo sempre chiederci qual è l'elemento poetico del messaggio se tende verso la poesia o no e come facciamo rappresentare questa poesia ma proseguiamo il messaggio poetico proprio perché propone la propria struttura come primo oggetto di considerazione è sempre più complesso attenzione è sempre più complesso di un messaggio referenziale comune e certo il messaggio referenziale ti dice che devi andare a cortina d'ampezzo ma Emily Dickinson ti dice un'altra cosa cioè tu a cortina d'ampezzo ci vai non ci vai leggi decidi cosa fare ma Emily Dickinson ti fa riflettere sul rapporto che tu hai con la montagna a partire da che cosa a partire dal suo rapporto quindi non c'è niente di oggettivo è un messaggio appunto interpretabile il messaggio referenziale invece una volta che ha rispettato le convenzioni volute dal codice quindi codice linguistico eccetera per rendere inequivocabili i propri segni e la loro funzione nel contesto deve essere abbandonato il suo autore ad esempio non si pone particolari problemi nell'ordine della relazione dei termini se due termini alla luce del codice hanno lo stesso significato poco importerà usare l'uno o l'altro al massimo per esigenze di ridondanza si useranno entrambi l'uno a ribadire l'altro invece in un testo poetico noi stiamo molto attenti al codice una parola non vale l'altra addirittura noi possiamo scegliere una parola non per il suo significato ma per la musicalità che quella parola può introdurre associata alle altre e questa per esempio può essere una letterazione che ne so non c'è solo il significato anzi il significato passa in secondo piano perché ma perché neanche l'autore conosce il significato di quello che vuole scrivere perché se lui lo conoscesse ce lo spiegherebbe e noi non leggeremmo più esopo o o non so io russo o o Dickinson perché sarebbe già tutto spiegato il messaggio poetico il fatto che due termini abbiano lo stesso significato per l'artista non risolve ancora nulla perché il suono di uno di due appunto potrebbe essere più adatto a porsi in relazione con il suono di un altro alla luce del codice no dunque il messaggio poetico non si costituisce solo come un sistema di significati indicato da un sistema di significanti ma anche come il sistema delle relazioni delle reazioni sensibili immaginative stimolate cioè da quello che stimola il messaggio stesso la sua composizione ti stimola qualcosa ecco perché per noi è stato fondamentale fare l'esperimento di prima perché non possiamo associare questa immagine a questo testo poetico dobbiamo trovare delle soluzioni e le soluzioni appunto sono tante perché sono tante perché stimolano ma allora tra queste soluzioni io ci posso mettere anche questa certo che ci posso mettere anche questa ma la scelgo tra le diverse soluzioni devo entrare in questo mondo altro giro al trasfida questo è un dépliant sulla biodiversità che ho preso non so dove ma non importa l'ho preso perché pone tanti problemi una comunicazione di questo genere ha un tentativo di arrivare verso la poesia senza riuscirci e quindi vi sfido come possiamo lavorare queste immagini affinché esprimo un qualche messaggio poetico prima di arrivare a questo ecco io vi propongo questo giochetto e cioè come cambia il senso allora avete visto che l'immagine abbiamo tre immagini qua c'è questo uccello e abbiamo due fiori allora però non c'è una relazione diretta tra queste no sono immagini buttate lì così va bene adesso stabiliamo questa relazione una e due la domanda è come cambia il senso quali emozioni suscita nei due casi vai col QR code e rispondi al rispondi al modulo che ti propongo il link lo inserisco sempre nella chat eccolo qua prendiamolo intanto così ve lo mostro e vediamo magari anche in tempo reale quali sono i risultati non c'è un altro non nessuno di questi no no perché dobbiamo poter confrontare le risposte quindi sono giochetti che potete fare anche potete anche proporre con i vostri apprendenti li potete sviluppare articolare noi dobbiamo stare nel tempo che abbiamo a disposizione abbiamo bisogno di avere risposte che siano confrontabili intanto vediamo quello che dite nella chat sì ho messo tutti Paola avevo fatto questo ma si vede che proprio ho messo tutti come editor però si vede che poi armeggiando così magari è ritornato alla condizione di prima quindi sarà proprio quello come dice Paola Alessandra dice parte del presupposto che poetico e pubblicitario siano usati in senso metaforico altrimenti non mi ritrovo l'ampio spettro della comunicazione ma intanto noi distinguiamo tra comunicazione tra comunicare e narrare facciamo queste due cose poi vediamo che sarà molto più chiaro tutto il sistema e la base di questa distinzione è la distinzione tra messaggio poetico e messaggio referenziale quindi sì è in chiave metaforica ma mica tanto perché se tu prendi veramente tutti i messaggi lascia perdere gli stili quelli sono stili all'interno di sistemi di comunicazione ma prendi i due grossi elementi davvero li puoi distinguere puoi distinguere tutto ciò che tende verso la poesia da tutto ciò che tende verso la comunicazione basta cioè l'informazione che hanno degli oggetti come referenti quindi entriamo proprio in quest'ordine di idee proprio nell'ordine di idee che il mondo tutto il mondo non della comunicazione perché la comunicazione è una parte di messaggi ma tutto il mondo del messaggio sia suddiviso in due parti quello della comunicazione da una parte e cioè messaggi referenziali e quello poetico dall'altro dove per poesia non intendiamo Emily Dickinson ovviamente intendiamo qualsiasi contenuto abbia una tendenza alla poesia cioè all'autoreferenzialità del messaggio non è un fiore ma un nudi branchio non lo so qui lo sapete voi il terzo è un mollusco esatto perfetto un mollusco però vedete uno che non lo sa pensa che sia un fiore quindi già abbiamo già anche solo dal punto di vista della comunicazione è sbagliata è sbagliata perché perché tu hai un uccello su una montagna su un sasso poi hai un fiore e quindi come secondo elemento il terzo pensi che sia un fiore comunque non importa questo non ha nessuna importanza perché se si sbaglia a comunicare non è un problema che ci riguarda per noi il problema è non sbagliare a raccontare ok allora vediamo qualche risposta tante ne abbiamo tante vediamo quelle qua vorrei vedere dove sono l'epilogo eccoli qua i grafici dunque fiore viola accostamento al fiore viola dice che da sentimenti di paura e timore pochi disgusto e repulsione pochi per la maggioranza affettivi e romantici la maggior parte affettivi e romantici e vediamo il secondo invece dice paura e timore sono maggioritari anche se relativi gli affettivi e romantici diminuiscono rispetto a quello di prima vedete e poi gioia e felicità sono anche qui ecco sono anche qui un po' aumentano un po' ma rappresentano sempre una minoranza e disgusto e repulsione diminuiscono scusate continuo ad andare su e giù perché ogni volta che uno risponde mi salta il quadro pof allora stavo vedendo il secondo quindi il secondo accostamento quello col fiore è bianco quindi sentimenti di disgusto repulsione e paura sono circa la metà però quello che notiamo è che i sentimenti affettivi e romantici diminuiscono è giusto questo perché poi è chiaro che non si ha allora non ci sono tutto quello che vi sto per dire adesso non ci sono delle regole che si ferree o dei codici stabiliti arbitrariamente è un rapporto e quindi mutevole però in linea di massima in linea di massima qui noi abbiamo l'espressione di un rapporto più affettivo perché perché questo fiore benché il colore sia viola attenzione benché il colore sia viola poi lo vedremo perché faremo un discorso sui colori ma benché il colore sia viola la composizione di questo fiore con un grande spazio bianco vuoto insomma dietro così una certa armonia le curve morbide il fatto che ce n'è uno preeminente altri due invece tendono sono più più piccoli quindi dà un senso di come dire anche protezione anche di non pericolo no e questo questo uccello sembra avere un rapporto appunto più affettivo mentre questo che non è un fiore qui correggeremo però datemi atto ci sono dei fiori che sembrano così è vero o no? in natura ci sono no? qualcuno mi dica di sì sì no? ci sono fiori che assomigliano a questo mollusco qui invece a parte il fatto di sapere che sia un fiore o un mollusco abbiamo una forma completamente diversa e nonostante sia bianca attenzione nonostante sia bianca può incutere timore paura o repulsione perché? perché ha una forma puntita culea è grande sembra quasi una bocca che possa inghiottire qualche cosa quindi il passero questo questo uccello che è lo stesso nella stessa identica posizione sembra esprimere due sentimenti differenti sembra avere due posizioni diverse quando la sua posizione è identica questo annotatevelo sul quaderno ve lo annotate perché ne parleremo la volta prossima svilupperemo di più questi aspetti legati all'immagine questo è il principio di Kulesov scrivetelo principio di Kulesov la volta prossima lo affronteremo il famoso principio di Kulesov che è l'architrave sulla quale sulla quale noi costruiremo tutta una serie di ipotesi narrative certo poi lo spazio lo spazio come dicevo prima qui è meno occupato qui è più imponente quindi da un senso di quindi per dirvi che cosa per dirvi attenzione alle forme a che cosa si accosta quindi attenzione alla al modo con cui noi trattiamo le immagini i testi le accostiamo e così via cioè qualcuno dice biodiversità di cielo di terra e di mare quindi dice ma nel titolo c'era scritto di cielo di terra e di mare si era scritto nel titolo però bisogna sempre immaginare come si comporta qualcuno che ha nelle mani un depian per esempio io ho letto solo biodiversità e poi sono andato a vedere le immagini non mi è neanche saltato in testa di leggere sotto ma il mio comportamento è normale il comportamento di tanta gente che non sta lì a guardare tutto quello che c'è scritto in un campo comunicativo dà un'occhiata e cerca attraverso un'occhiata di interpretare perché non ha tempo da perdere a meno che non sia particolarmente interessato proprio a questo fatto che dal 18 al 24 maggio allora va a studiarsi tutto quanto ma se gli capita una comunicazione questa comunicazione deve parlare immediatamente non può essere decifrata deve essere qualche cosa che tocca immediatamente determinate corde quindi qual è l'oggetto della comunicazione questa è la questione ma a noi come vi dicevo la comunicazione interessa poco a noi interessa il racconto e infatti qui non c'è racconto c'è comunicazione e la principale comunicazione come rilevava appunto chi è qua Eleonora Eleonora ci sei come rilevarvi tu giustamente la comunicazione qua nel testo sì sì sono qui ecco è la comunicazione nel testo giustamente però se tu hai un volantino la comunicazione non può essere nel testo perché la prima cosa che andiamo a vedere sono le immagini e la relazione tra queste immagini e la relazione tra queste immagini è determinata da questo cioè dagli accostamenti tra un'immagine e l'altra che se anche tu non vuoi creare così ma chi legge interpreta e le crea se le crea nella sua mente modi per poeticizzare ecco modi per poeticizzare cioè accostamenti mi viene da dire corretti ma non esiste una correttezza cioè nel senso che va studiata vanno fatte delle prove dovete scegliere le cose vanno trattate con cura per cose intendo sia le parole sia le immagini con molta cura ecco perché per esempio quando noi lanciamo le nostre sfide nel forum qui perché viene ripetuto ma la stessa cosa di prima va bene perché quando lanciamo le nostre sfide nel forum qualche volta vi è stato detto procedete con calma scegliete le parole non buttate via quello che scrivete pensateci pensateci e date ai vostri compagni elementi di poesia come qualche volta è capitato infatti qualcuno ha anche ricevuto i famosi premi di Gotham sequenze per pilotare le emozioni ragioniamo ancora su questo poi chiudiamo con le immagini e torniamo ai testi allora guardate lontananza chiaramente perché guarda indietro guarda indietro e questo invece esprime attrazione più attrazione perché per tutte le cose che abbiamo detto prima occupa più spazio sembra più aggressiva come immagine quindi dipende da come noi collochiamo e se invertiamo chiaramente se invertiamo questo soggetto lo mettiamo dall'altra parte cioè a guardare nella sua direzione dall'altra parte ecco che cosa succede guardate la differenza non è indifferente il punto di vista cambia completamente qui c'è distanza lui prende una distanza da questo oggetto che è pericoloso così invece no c'è la stessa distanza ma non sembra che lui prenda una distanza e perché ma non solo per le differenti forme rappresentate dalle due immagini ma anche per la direzione dello sguardo perché se io guardo verso sinistra guardo indietro è qualcosa che ho lasciato un ricordo potrebbe addirittura esprimere nostalgia ma se io guardo invece avanti esprimo qualche cosa che può capitare e adesso io non so se funziona scusate interrompo un attimo la condivisione la rifaccio perché non mi ricordo se ho ottimizzato la eccolo qua se ho ottimizzato l'audio adesso l'ho ottimizzato perché adesso guardate che cosa faccio torno alla posizione di prima e avvio una musica di sottofondo siete pronti ad ascoltare? io non ci sono avete sentito? no sì? mi dite qualcosa? io sì ah ecco grazie che cosa che cosa questa è una musica è nostalgica fortemente che esprime dei forti sentimenti ed è nostalgica questa musica connota tutta l'immagine guardate che cosa faccio adesso io inverto la direzione dello sguardo rimetto la stessa musica perfetto allora che cosa abbiamo? abbiamo due sentimenti cioè abbiamo l'espressione di un medesimo sentimento perché? perché la musica è prevalente la musica come codice come codice tende a sovrastare queste immagini che tra l'altro diciamo non sono neanche molto belle da guardare nel senso che sono sgranate eccetera quindi anche la qualità incide ma comunque in questo caso la colonna sonora sovrasta il messaggio che l'utente ha percepito osservando solo la diversa disposizione di queste inquadrature per stabilire che cosa? per stabilire una medesima sensazione che ha una sensazione un po' nostalgica anche di fronte a un elemento che potrebbe suscitare timore perché se io scrivessi qui sotto scrivessi che questo uccellino guarda con timore questo fiore eccetera pensando a quello che ha lasciato e così via non starebbe male perché la musica proprio evoca questo allora le cose si complicano abbiamo i testi abbiamo le immagini abbiamo la musica le cose si complicano molto si complicano molto ma si semplificano anche perché alla fine alla fine basta poco per cercare di suscitare dei sentimenti delle emozioni che è che scriveva Nicola? bianco e resto in nero? meglio a che cosa ti riferisci? si riferiva a Nicola non lo so vabbè entriamo poi nella questione delle immagini ma questo lo vediamo poi nel terzo capitolo la volta prossima poi parleremo proprio delle immagini fotografie eccetera qui quello che a noi interessa è cercare di capire come si può tendere ad arrivare verso un messaggio poetico che strumenti noi abbiamo a disposizione per poter fare questa operazione operazione che abbiamo visto qui non c'è non c'è ed è curioso perché ma perché invece perché l'argomento si presta molto cielo terra mare biodiversità natura fotografie abbiamo degli elementi straordinari per poter raccontare qualche cosa tendendo verso la poesia però qui adesso il discorso si fa complesso e voglio andare avanti perché abbiamo purtroppo abbiamo a che fare con un trucco che nella pubblicità è molto diffuso molto diffuso da Radadang e cioè se è vero che l'immagine diciamo il messaggio poetico autoreferenziale è quello che mantiene una forza nel tempo perché è sempre reinterpretabile ci possiamo continuamente accostare a un messaggio poetico reinterpretandolo e trovandolo interessante scoprendo nuove cose mentre il messaggio referenziale si consuma perché è legato a un oggetto e il consumo di quell'oggetto determina la fine del messaggio allora che cosa succede nel campo pubblicitario succede che vengono innestati degli elementi poetici all'interno di messaggi referenziali con lo scopo di sostenere di allungare la vita al messaggio pubblicitario stesso che è un messaggio referenziale guardate questo esempio anzi guardate ascoltate appare il cielo al fondo reposito che in anticipo dal freddo che in anticipo lo scopo e lo scopo che in anticipo mi fa lo scopo e lo scopo per la vita Conto deposito, 2,50% e interessi in anticipo. Che banca? La banca per tutti del gruppo Mediobanca. Dunque, che cosa posso dirvi? Una banca. E qui siamo, guarda questa è una pubblicità del 2008-2001, sì da quelle parti lì, in seguito alla crisi dei subprime, questa grossa crisi provocata appunto dalla speculazione bancaria. Una crisi finanziaria incredibile, di cui le conseguenze sono ancora oggi. Se vi ricordate, centinaia di migliaia di cittadini degli Stati Uniti sono stati messi sull'astrico, costretti a vivere per strada, in tende, in roulotte, eccetera, perché hanno perso la loro casa. Dunque, hanno perso la casa. La casa è la parola ponte che lega tutto qui dentro. Perché? Perché la colonna sonora che è stata scelta è quella del Nabucco. E il Nabucco è la storia di un popolo alla ricerca di che cosa? Della propria casa, patria, casa. Le banche sono quelle che hanno distrutto la casa di centinaia di migliaia. Sembra paradossale, ma io credo che chi l'abbia confezionata questa pubblicità non ci abbia neanche pensato a questo, probabilmente anche a causa dell'ignoranza culturale la quale ormai viviamo oggi. Però, che cosa succede? Succede che il Nabucco, che sicuramente è da scrivere i messaggi poetici, viene innestato in una pubblicità di una banca 25% conto deposito con l'intento di sostenerne la fruizione e quindi di limitare il consumo. Ma questa operazione, questa operazione, che cosa produce? Beh, produce un abbassamento culturale. Perché? Semplice. Perché chi non sa che cos'è Nabucco associa questa colonna sonora alla pubblicità della banca. Questo funziona in tutti i campi. c'erano poesie, c'erano, non so, musiche di un certo tipo, di tutto. Di tutto viene utilizzato per sostenere quello che non c'è dentro un messaggio pubblicitario, e cioè la poesia, che è l'ultima cosa che c'è in un messaggio pubblicitario. Viene inserita, viene inserita artificialmente, perché vi ricordo, qualsiasi messaggio pubblicitario ha un solo messaggio, che è compra questo, non ce n'è altri. Dunque, questo compra questo lo devi declinare in un sacco di modi. Ma paradossalmente, quello che vi ho appena mostrato, mostra che abbiamo ragione. Cioè, che dobbiamo proprio tendere verso la poesia, che dobbiamo proprio tendere verso la cosiddetta appunto autoreferenzialità del messaggio, cioè verso il messaggio poetico. Anche la pubblicità della Nutella, guarda, le guardo poco le pubblicità, voi pensate che io non ho la televisione da più di 25 anni, quindi proprio mi disinteresso della pubblicità, le studio, me ne occupo quando studio, ovviamente, studio molto, ma non, quindi non so la Nutella che pubblicità faccia. Però, voi basta fare così, voi prendete una pubblicità qualsiasi, poi scrivete, cioè staccate, quello che riguarda compra questo e poi guardate il resto e vedete se si tratta di un innesto poetico o no, ma tutti fanno così, perché è impossibile. Io non posso dirti compra questo, perché non è un messaggio, cioè, sì, lo posso scrivere su Amazon, no, in un poster che ti compare, però, se io voglio creare una comunicazione che cerchi di avere un senso e una durata, sono obbligato a inserire, a innestare dei contenuti poetici, che possono essere anche semplicemente stilistici, pensate per esempio alla composizione dei colori, a tante cose, no, cioè la poesia non è solo quella che abbiamo letto di Emily Dickinson, è tutto ciò che va verso l'autoreferenzialità di un messaggio. Ma poi, ma poi, ma poi tutto scade perché alla fine il messaggio ovviamente viene fuori e comunque deve essere consumato. E allora adesso cominciamo a fare sul serio perché quando gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, quindi cominciamo veramente a parlare di raccontare. Chiudiamo con questa introduzione che spero sia stata chiara nel messaggio che vi volevo comunicare. vietato sporgersi dal finestrino. Qui, ah, intanto io queste analisi non le ho inventate io, le riprendo da Umberto Eco, poi ho sviluppato, ho scritto anche dei testi su queste cose, va bene, ma comunque la base parte da delle critiche fondamentali che faceva Umberto Eco negli anni 60 che sono di un'attualità straordinaria, per chi è interessato può leggere il libro Apocalittici integrati di Umberto Eco. però adesso e quindi adesso ci riferiamo proprio a un esempio di Umberto Eco tratto da questo libro. Vietato sporgersi dal finestrino. Di che cosa parliamo adesso? Adesso parliamo veramente della costruzione di un racconto, cioè di un messaggio autoreferenziale, quindi che abbia, che non abbia un oggetto come referente. Sentite cosa dice Eco. Diceva un messaggio come vietato sporgersi che appare appare alla sua epoca perché adesso i finestrini sono praticamente tutti chiusi, sigillati, quindi non puoi sporgersi, sei lì blindato dentro il treno. Però una volta c'era, potevi tirare giù i finestrini e c'era scritto questa cosa, vietato sporgersi dal finestrino. C'era scritto. Un messaggio come vietato sporgersi che appare sulle vetture ferroviarie per l'essere stato reiterato e offerto alla nostra decodificazione una infinità di volte e in mille occasioni si presta ottimamente al consumo. Quindi si presta al consumo. Nessuno vi pone più mente quando decide di affacciarsi dal finestrino di un treno in corsa. Per renderlo di nuovo efficace occorrebbe reiterarlo in un modo originale o arricchirlo con la comunicazione delle ammende commissionate ai contravventori o meglio tradurlo in una nuova formula che proprio per la sua inaspettatezza costituisca un elemento di shock. Ad esempio ecco quello che dice Eco due mesi fa il signor Rossi sporgendosi da questo stesso finestrino si è visto asportare un occhio da un ramo sporgente nel tratto Cavaller Maggiore Bra ma nel caso del messaggio poetico è diverso la sua ambiguità è una continua sfida decifratore distratto un permanente invito alla criptoanalisi nessuno può affermare che diffusosi oltre ogni limite di sopportazione un messaggio poetico inteso ormai da molti come un puro feticio possa essere a tratti affrontato da qualcuno con disposizione di assoluta verginità. Dunque di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che nel momento in cui Eco scrive questo cioè dice due mesi fa il signor Rossi sporgendosi da questo stesso finestrino si è visto asportare un occhio da un ramo sporgente nel tratto Cavaller Maggiore Bra che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che stiamo andando verso la costruzione di un messaggio poetico perché ci racconta una storia ci racconta una storia che nel momento in cui è una storia e comincia a essere una storia incontra incontra immediatamente il nostro immaginario potrebbe essere una nostra possibile storia potrebbe essere qualche cosa nel quale noi ci identifichiamo entriamo nel gioco di questa storia cioè entriamo nel gioco di una interpretazione entriamo nel gioco di un messaggio che ha a che fare con l'autoreferenzialità dove il vietato sporgersi dal finestrino non è solo una pura comunicazione cioè rimane una pura comunicazione ma qui ma qui invece viene declinata attraverso un racconto certo attraverso un raccolto molto semplice elementare quasi un pitch cioè proprio l'esposizione di una trama sinteticissima ma c'è c'è un racconto che implica delle relazioni interne tra un soggetto che si chiama Rossi che si esporta su una tratta molto precisa un ramo l'occhio è qualche cosa che ci fa entrare dentro appunto l'accenno di una storia allora ecco la differenza tra comunicare vietato sporgersi dal finestrino e raccontare due cose completamente diverse infatti per esempio quando un insegnante svolge una lezione fondamentalmente comunica non racconta una storia ma proprio per il fatto che deve in qualche modo interrompere la comunicazione deve arricchirla con degli elementi poetici quindi elementi che vanno verso l'auto per referenzialità e quindi stimolano i sentimenti eccetera eccetera che cosa fa? racconta racconta delle cose le declina non ti dice che semplicemente quella specie vivente è composta da bim boom ti racconta ma ti racconta delle storie lo deve fare lo sente come una necessità se ti parla di qualche cosa deve per forza raccontare altro e agganciarlo a quello che ti sta comunicando lo deve fare per forza e non solo ma deve usare anche tutti quei sistemi che tendono ad andare verso la poesia per esempio deve articolare le parole in un certo modo caricare il discorso di un certo colore variare il linguaggio ma questo lo fa non necessariamente perché diciamo ha studiato in un codice come deve fare ma perché lo sente come una necessità il raccontare è una necessità è qualche cosa che l'uomo pratica come una necessità per quale motivo per il fatto come abbiamo detto dall'inizio fino adesso che il racconto implica l'espressione di sentimenti ed emozioni e sentimenti ed emozioni significa relazioni fra soggetti e quello che conta nella vita sono le relazioni fra soggetti questo conta è la cosa più importante per l'essere umano quella che capisce come essere la questione decisiva ed è da lì appunto che adesso però noi dobbiamo andare avanti perché prendendo spunto da questo processo che eco cerca di delineare quindi due mesi fa il signor rossi eccetera noi ci chiediamo ci chiediamo in che modo possiamo andare avanti sul racconto di eco e svilupparlo quindi quaderni pronti appunti pronti perché qui attenzione attenzione prendiamo questo testo di eco e lo trasformiamo in un racconto un vero racconto e quindi la mia intenzione è insegnarvi alcuni meccanismi che possono aiutarvi per le sfide che poi vi attendono a Gotham City e cioè rendiamo il testo più letterario per esempio questo è il testo di eco lo vedete qua sulla sinistra per esempio inseriamo un prologo un prologo che ha la funzione di stabilire un'attesa quindi diciamo erano le 6 e 30 del mattino il signor Rossi gli occhi gonfi la testa indolenzita i muscoli che ancora faticavano a mettersi in moto decise di prendere un abboccato d'aria fresca per questo aprì il finestrino con il treno in corsa nel tratto Cavalier Maggiore Bra è stata questione di un attimo un ramo sporgente gli asportava un occhio cosa abbiamo fatto abbiamo preso il pitch chiamiamolo così cioè questa brevissima super sinossi il pitch è una sinossi molto molto stretta e abbiamo aggiunto questo prologo le 6 e 30 del mattino gli occhi gonfi cioè diamo l'idea diamo l'idea che questo signor Rossi sia in una certa condizione di lavoratore che o viaggiatore insomma che ma andiamo avanti vogliamo introdurre una maggior suspense per esempio per questo proviamo ad attirare l'attenzione del lettore su un evento collaterale che avrebbe potuto essere fatale in questo modo creiamo anche un piccolo colpo di scena riprendiamo il testo e lo riscriviamo erano le 6 e 30 del mattino il signor Rossi gli occhi gonfi la testa indolenzita i muscoli che ancora faticavano a mettersi in moto decise di prendere una boccata d'aria fresca per questo aprì il finestrino con il treno in corsa nel tratto cavaler maggiore bravo è stata questione di un attimo un ramo sporgente gli asportava un occhio ah no scusate questa è la parte scusate questa è la parte che abbiamo visto prima noi la modifichiamo così erano le 6 e 30 del mattino il signor Rossi gli occhi gonfi la testa indolenzita i muscoli che ancora faticavano a mettersi in moto decise di prendere una boccata d'aria fresca stava aprendo il finestrino con il treno in corsa nel tratto cavaler maggiore bravo quando sua moglie gridò attento la valigia che già barcollava sulla reti si è schiantata a terra sfiorando la testa di Rossi cioè non siamo andati al finale abbiamo introdotto un altro elemento un elemento che introduce una suspense e che sembra sciogliere questa suspense sua moglie dice attento guarda mentre lui si sta sporgendo dal finestrino dice attento sta cadendo la valigia andiamo avanti aggiungiamo un pizzico di ironia al finale erano le 6.30 il mattino signor Rossi gli occhi gonfi la testa indolenzita e muscoli che ancora faticava a mettersi in moto decise di prendere una boccata d'aria fresca stava aprendo il finestrino con il treno in corsa nel tratto cavaler maggiore bravo quando sua moglie gridò attento la valigia che già barcollava sulla retina si è schiantata a terra sfiorando la testa di Rossi decisamente un po' di aria fresca gli avrebbe fatto bene è stata questione di un attimo un ramo sporgente gli asportava un occhio quindi non male un po' di suspanso un pizzico di ironia poveraccio questo poveraccio questo Rossi scampato per un pelo un infortunio finisce dritto dritto nelle mani del destino raccontare questo è raccontare un esempio un esempio minimo elementare non particolarmente complesso però capite dove vi voglio portare quando noi parliamo di insegnare divulgare comunicare dobbiamo cercare questo è il nostro scopo di sviluppare la parte narrativa del nostro discorso allora qualche commento qui perché poi andiamo invece prendiamo un testo un testo di un altro tipo e vediamo come l'abbiamo risistemato il signor Rossi va in vacanza di Bruno Bozzetto non lo ricordo io me lo ricordo l'ho visto ma non ti saprei dire Damiana dice c'è una differenza tra una pubblicità pulita e uno storytelling creato dietro un brand come può essere per Nutella non conosco la pubblicità di Nutella ma conosco lo storytelling sono uno di quelli che l'ho introdotto in Italia negli anni 90 lavoravo per l'Apple e per l'Apple facevo storytelling e anzi ho insegnato ad Apple a fare storytelling in un certo modo quindi lo storytelling però che si fa adesso non è esattamente quello che lo storytelling vero Ada lo storytelling vero e puro è un'altra cosa sono forme mascherate di pubblicità attraverso meccanismi narrativi ma sono veramente forme mascherate di pubblicità non ha niente a che fare con lo storytelling reale vero però di questo parleremo magari potremmo fare un piccolo mini webinar proprio sullo storytelling su che cosa vuol dire come si fa eccetera e posso farti vedere magari degli esempi proprio concreti di lavoro in azienda in questo campo però quello che ti dico è che fai molta attenzione a distinguere diciamo quando la narrazione è inserita in un contenuto di marketing pubblicitario così e quando invece è un vero storytelling cioè una vera narrazione che parte sempre dai soggetti dai loro sentimenti dai rapporti reali che ci sono all'interno di un'azienda e tieni conto che non tutte le aziende possono fare davvero uno storytelling perché non ne hanno la diciamo non c'è il terreno non c'è proprio il terreno aziendale che deve essere di un certo tipo per poter sviluppare un vero un vero storytelling però torniamo al nostro ah sì le disgrazie signor Rossi certo certo assolutamente adesso mi ricordo Nicola sì sì bene potete accendere i microfoni così facciamo due chiacchiere al volo cinque minuti e poi andiamo avanti con il nostro discorso io siete morti siamo vivi no ci siamo ci siamo datemi vivi e leggetti Ivan Ivan esiste Ivan ci siamo esistiamo ma una cosa una domanda è questa nel senso che è vero che le aziende quando fanno marketing devono vendere però è anche vero che negli ultimi anni si sta sviluppando la social responsibility quindi in alcune aziende visto che le aziende sono fatte di persone ci sono delle persone che credono in alcuni valori e che tendono a volerli comunicare con alcuni loro progetti quindi sì ma sono dei valori artificiali che non sono condivisi dai dipendenti sai l'azienda no 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 lo dico proprio i dipendenti no no sì alcune sì in alcune aziende sì in alcune aziende però per questo dico che lo storytelling il vero storytelling non lo puoi fare dappertutto ma lo puoi fare dappertutto io volevo io volevo chiedere una cosa io ho già l'altra prima webina ho fatto una domanda perché appunto studio comunicazione e stamattina stavo leggendo un libro sul giornalismo che si chiama giornalismo aumentato e sono arrivata giusto appunto alla parte dello storytelling e ho letto questa frase che mi ha fatto pensare un sacco perché dice appunto raccontiamo delle storie perché le vite umane hanno bisogno di essere raccontate sì e la mia domanda è appunto invece dato che appunto nel marketing dei brand delle pubblicità così diciamo che lo storytelling è molto artificiale nel giornalismo invece è base proprio cioè è la base del giornalismo stesso tu devi sempre partire da un presupposto un giornale è un'azienda è un'azienda che fa un servizio fa un servizio alle persone ma non è al servizio delle persone cioè un giornale non è una creazione indipendente di un gruppo di intellettuali che decide di no è un business come tutti i business quindi bisogna sempre distinguere le cose e cosa devi distinguere devi distinguere anche il singolo giornalista che scrive all'interno del giornale che magari lui potrebbe avere un certo spazio invece perché nel contesto economico generale vada bene che lui racconti proprio delle vere storie ho capito non possiamo prendere non possiamo prendere nel campo della comunicazione non possiamo prendere un brand e dire pazza è così no non è così non è così perché poi tu pensa poi alla proprietà della comunicazione oggi ci sono tre multinazionali che detengono la comunicazione di tutto dai social alla stampa tutto quindi e lo fa e comunicano per quale motivo per dare un'informazione a te comunicano perché l'informazione ha un valore ha un valore e dove ce l'ha il valore questa informazione ce l'ha in borsa quindi quando parliamo di storytelling aziendale di qualsiasi tipo di azienda bisogna sempre prenderlo con le molle perché o sono aziende come dice Ivan che per esempio vi faccio un esempio ho aiutato ho aiutato dei dipendenti di un grande complesso chimico internazionale uno dei più grandi al mondo a creare degli storytelling perché l'esigenza è partita da loro all'interno di uno stabilimento di uno dei più grossi stabilimenti europei e quindi mi hanno chiamato per fare questa cosa ed è stata una cosa eccezionale abbiamo fatto poi un meeting in cui queste persone leggevano e non erano storytelling video era proprio una cosa semplice ma veramente geniale poi che cosa è successo la direzione di questa multinazionale che era presente ha visto l'enorme successo di questa cosa e ha detto adesso ne facciamo uno internazionale coinvolgiamo tutti chiamiamo il figo presentatore di qua l'altro di là mettiamo su allestiamo facciamo eccetera ed è stato un fiasco perché? perché la comunicazione non c'entra con la narrazione se tu vuoi fare business lì sopra tu uccidi la narrazione perché Dickinson torniamo sempre ai fondamentali la Dickinson non scrive per vendere le sue poesie se poi le vende va bene l'artista non fa quello che fa per vendere per mangiare per vivere certamente ma il suo scopo non è quello lui vive per l'arte vive per la poesia vive per scrivere e vivere per nel momento in cui questo diventa un mestiere cioè c'è un'altra finalità quindi il referente è un oggetto e l'oggetto è il business questo cozza contro la poesia non c'è niente da fare sono due cose che non stanno insieme perché l'una è l'indipendenza dell'arte e dell'artista e l'altra è la dipendenza del soggetto dal mercato ora le due cose naturalmente si possono confondere nell'attuale società è giusto che uno guadagni da vivere facendo anche l'artista eccetera è chiaro questo se poi la tua opera vale 750 mila dollari cioè sono contento per te è chiaro quindi bisogna sempre sfumare questi discorsi però bisogna tornare sempre ai fondamentali e i fondamentali rappresentano una linea di demarcazione netta o fai una cosa per il mercato o la fai per la poesia poi la puoi fare per entrambi naturalmente ci sono sfumature eccetera eccetera ma ritorniamo sempre alla base e quindi se noi seguiamo un filone seguiamo il filone poetico la narrazione la cosa eccetera vedrai che anche se facciamo business con questo sarà un buon risultato sarà una buona cosa ma se parti dall'altro filone cioè il fare business e poi ci appiccichi su la poesia la narrazione lo storytelling eccetera è un'operazione che funziona dici bello figo interessante eccetera poi crolla tutto quei dipendenti lì di questo grande complesso chimico ancora adesso vanno a rileggersi quello che avevano scritto ricordano le foto mentre la convention la grande convention megagalattica con attori subrette gruppi rock una cosa incredibile quella non se la ricorda più nessuno perché perché non c'è il sentimento quello che lega quello che ci lega sono i sentimenti è l'unica cosa adesso ne parleremo tra l'altro fra pochissimo sono proprio i sentimenti è questo che ci lega è questo che stabilisce le relazioni umane la relazione umana non è ho bisogno di un profumo tieni ti do il profumo va bene ho bisogno di un profumo grazie mi dai il profumo no ma io ti do il profumo perché c'è qualche cosa tra me e te non è non deve esserci necessariamente chissà che cosa ma l'espressione di una comunanza tra esseri umani sì l'espressione basilare minima un piccolo fuoco una piccola fiamma di un sentimento deve esserci ed è quello che lega i soggetti umani da lì nasce la narrazione quindi narrare o comunicare ecco perché li distinguiamo e tengo molto a questa distinzione proprio ci martello su perché perché bisogna avere chiaro proprio dov'è il bene dov'è il male se vogliamo no? ripeto con tutte le sfumature che certo no? sì che dice qualcosa qua io sono Alessandra chiedo scusa se ti ho interrotto ma perché era proprio su questo ah dimmi ciao interrumpetemi finché volete no scusami era no l'ho scritto in chat io capisco la come dire ciò che è sotteso quando a questa distinzione comunicazione narrazione però ho davvero un problema con questa cioè con questi termini nel senso che questa accezione negativa che vi viene data al termine comunicazione cioè proprio non riesco a a farmela andare giù nel senso che appunto la comunicazione è proprio quello che dicevi tu è la base della della società e la la storia dell'uomo viene dal bisogno di comunicare ovvero di entrare in relazione no Alessandra perché tu usi il termine comunicare no ascolta intanto non è negativo né positivo beh diciamo hai appena detto deve essere chiaro che cos'è il bene e il male insomma mi sembra abbastanza netta come distinzione sì ma lo legavo al messaggio referenziale allora dobbiamo ripartire un attimo Alessandra che cos'è la comunicazione la comunicazione è guarda che tu sei stata inserita in un gruppo a Gotham sei stata inserita nel gruppo orto botanico o Central Park quale? scusami io sono in Central Park central perfetto questa è la comunicazione io ti comunico che sei stata inserita nel Central Park non è negativa o positiva è una comunicazione è giusto che ci sia è giusto che ci sia è legittimo ma è comunicazione il modo con cui invece ti è stato comunicato attraverso il benvenuto il percorso che abbiamo fatto eccetera quella è narrazione questa è la differenza la comunicazione deve essere distinta dalla narrazione perché la comunicazione ha una funzione ha una funzione la funzione è farti sapere qualche cosa ha un oggetto referente l'oggetto referente che tu sei a Gotham e tu devi fare certe cose una lezione che ti spiega come non so produrre un determinato prodotto realizzare un disegno eccetera è una comunicazione non va al di là di una informazione che tu ricevi ora la questione è se io ti costruisco una narrazione su quello che ti devo comunicare faccio un'altra cosa perché una volta che io ti ho comunicato che tu sei a Gotham mi sei lì è finito io ti comunico questo quando tu lo sai quando tu l'hai saputo tu entri fai quello che devi fare esci e abbandoni il corso invece noi che cosa facciamo noi creiamo una storia narrazione e tu stai dentro il corso perché? perché la comunicazione tu la usi è funzionale la narrazione invece no perché è una comunità narrante tu fai parte con altri soggetti e costruisci una relazione che è affettiva secondo me c'è anche se io ti scrivo e ti invito a cena facciamo finta che ci conosciamo andi fuori di questo ambiente ti invito a cena sto comunicando con te però appunto non ti sto solo dicendo ci vediamo vederti prossimo ventura ti sto comunicando che ho un piacere a vederti no non stai comunicando cioè è diverso ma intanto tu sei una donna io sono un uomo tu mi inviti a cena io sono sposato magari tu anche non è una comunicazione c'è tutto un discorso facciamo finta che tu sia la mia amica Chiara e come dire mamma di compagni di classe ma sei un'amica ma tu tocchi tocchi qualche cosa tocchi un messaggio un messaggio che è qualche cosa di più di una semplice comunicazione un invito a cena è qualche cosa che è connotato l'invito a cena è una cosa che ha una connotazione invitami a una riunione le cose sono diverse tu mi inviti a una riunione è una comunicazione ma se tu mi inviti a cena attenzione perché entra in gioco l'immaginario perché entra in gioco l'immaginario perché la cena è una relazione tra due persone una riunione no che relazione c'è? però secondo me quella relazione c'è nella comunicazione cioè io proprio non riesco a ma perché tu chiami Alessandra perché tu come tutti i semiotici e come viene insegnato nell'università ed è sbagliato e soprattutto è sbagliato in Italia perché c'è una predominanza della semiotica in Italia ma non è così in altri paesi perché tutti i semiotici chiamano comunicazione tutto quello che viene detto ma non è così la comunicazione come stabiliva Eco e tanti altri la comunicazione ha un messaggio ha un oggetto come referente quindi io e te ci parliamo non perché siamo interessati uno all'altra ma perché c'è un'altra questione di mezzo quella è comunicazione è solo quella la poesia non è comunicazione un romanzo non è comunicazione un racconto non è comunicazione uno storytelling non è comunicazione e comunque va analizzato in un certo modo posso potrei interrompere un secondo questa discussione perché sono laureata in comunicazioni e spesso c'era appunto questa distinzione tra comunicare e narrare qualcosa a livello pubblicitario soprattutto secondo me per far comprendere magari ad Alessandra secondo me quello che io condivido con Alberto ciò che dice la comunicazione è un messaggio da un emittente a un ricevente invece la relazione stop adesso lo affrontiamo il discorso lo affrontiamo subito e poi ti ridò la parola va bene va bene allora abbiate pazienza che andiamo di nuovo verso un terreno molto interessante speriamo di poter chiudere allora leggiamo questo insieme e poi vi faccio una domanda questo è afferente al proprio questo è un lavoro un lavoro che io ho ricevuto mi hanno chiesto di cambiare testi di questo genere perché non avevano successo una pubblicazione una pubblicazione ambientalista che aveva a che fare con la gastronomia e insomma non funzionava allora il testo era questo ho fatto pochi giorni fa una camminata nella collina torinese con gioia ho visto sui bordi del sentiero piccoli mazzi di fiorellini gialli è arrivata la primavera mi hanno annunciato e anche altri mazzolini blu forse violette le primule mi hanno richiamato alla memoria un periodo molto tempo fa in cui frequentavo amici che abitavano dalle parti dei laghi di Avigliana mi è venuta in mente in particolare una loro zia già anziana a quei tempi Caterina mi pare si chiamasse questa zia che con le primule ed altri fiori tra cui le violette ed altre erbe selvatiche in primavera all'estiva fantastiche odorose sapide minestre e non solo vorrei quindi oggi raccogliere per voi i miei ricordi circa l'abitudine di usare in cucina fiori ed erbe dei campi la più parte di essi ha virtù curative ed alimentari sorprendenti e varrebbe veramente la pena di rivalutarli senza dire della bellezza di una insalata di una minestra o di una frittata in cui occhiegino foglie e fiori coloratissimi però proverò a comporre un primo limitato elenco di quelle erbe e di quei fiori che hanno contribuito a comporre la cucina popolare in Piemonte sicuramente le primule e le viole componenti di bellissime buonissime minestre di primavera e poi l'impareggiabile ortica parte fondamentale tra le altre possibilità di un risotto che la sapienza culinaria ha poi nobilitato aggiungendo i gamberi e il tarassaco principe di un'insalata che i nostri padri arricchivano con l'uovo duro l'aglio e l'aceto e la impatiente sbalsamina proveniente dall'Asia ma ambientatasi benissimo da noi chiamata anche begli uomini i cui fiori da noi in dialetto si chiamano appunto begli uom scomparsa da tempo dai banchi dei contadini e che adornava le nostre insalate di primavera mi vengono in mente anche le aiucche per le quali farei un discorso meno pessimistico le aiucche già nominate da Plinio la salinucca di cui si cibavano i salassi l'antica popolazione celtica che abitava la valle sono erbe non dimenticate con le quali insieme con la bistorta altra erba dalle proprietà salutari tutti i ristoranti da parte della viola chiusella eccetera eccetera ok allora qual era il problema il problema è che qui si cerca di mescolare appunto informazione sulle erbe la cucina eccetera eccetera con una storia ma la storia non c'è e quindi questo testo è confuso è confusionario il lettore non lo legge legge le prime righe e poi non capisce quello che deve seguire perché parla di qualche cosa di scientifico senza essere scientifico e parla di qualcosa narrativo senza sviluppare una narrazione allora ecco l'incipit per esempio uno degli incipit possibili che può essere scritto per modificare proprio la traiettoria di questo racconto pochi giorni fa camminavo nella collina torinese quando a un tratto dei fiorillini gialli hanno sussurrato food hunter food hunter perché food hunter era il sistema diciamo il titolo di una serie di episodi di questa di questa cosa mi fermo di scatto e mi volto guardo il bordo del sentiero lei era lì bellissima luminosa e profumata la domanda che vi rivolgo è chi era lì chi era lì la primula no la violetta lei era lì la violetta la violetta vedete no vedete no voi dovete imparare ad alzare il tiro raccontare significa alzare il tiro il che non vuol dire fare gli eroici non è questo alzare il tiro non significa mettere Tom Cruise in un'azione non è questo alzare il tiro significa aiutare il soggetto a immaginare in grande e lo facciamo subito la primula ma sotto forma di donna intendevo la primavera la primavera esatto chi l'ha detto? io l'ho detto Edionora io non vedo qui non mi è sparito sono spariti tutti i vostri Eleonora brava Eleonora la primavera andiamo direttamente al fondo della questione mi stai parlando di tutte erbe primaverite qual è la madre di queste erbe se non la primavera e perché tu non intrattieni un rapporto diretto con la madre di tutto che è la primavera la personifichiamo cioè facciamo un'opera di antropomorfizzazione vediamo cosa succede quindi come continua in questo caso la primavera con i suoi fiorellini gialli e viola notate che in queste operazioni bisogna sempre cercare di mantenere il riferimento dell'autore i suoi testi iniziali anche se possibile le sue stesse parole la primavera con i suoi fiorellini gialli e viola resto un po' assorto e vedo di sotto le luci di Avigliana dove c'era la zia di alcuni amici che cucinava erbe fiorellini la primavera arrivava ecco che la primavera diventa un soggetto della storia la primavera arrivava e voi ve la immaginate lì questa primavera che arriva e zia Caterina la metteva in padella senza pensarci due volte la zia Caterina metteva in padella la primavera cioè cucinava la primavera questa è un'immagine forte è una metafora è una metafora incredibile dentro una storia perché ti aggancia tu hai creato un soggetto questo soggetto ha una relazione diretta ed è lui che viene messo in padella anche lei mi chiamava come quei fiorellini fu Dante fu Dante ho cotto dei fiori dell'erba per te falla parlare la zia la nonna quella che era direttamente un discorso diretto perché la gente parla non si esprime a gesti io non mangiavo né fiori né erbe non ero una bestia da pascolo non so se è vero questo ma non importa crea qualche cosa qualche cosa che metta in contrasto quello che sta succedendo con il soggetto che sta vivendo questa storia perché? ma perché così lo conquisti lo conquisti a che cosa? al fatto che la zia ti cucina la primavera in famiglia sceglievamo l'insalata dall'ortolano qualche volta ce la portavano i contadini ma con zia Caterina non si poteva scappare lei cucinava la primavera proprio come quella che spunta nei sentieri come questo e qui abbiamo tutta la differenza perché quello che voleva raccontare questo tizio è proprio è proprio la storia di una cucina legata a un territorio da una cucina invece non a chilometro zero eccetera c'è una cosa che conoscete benissimo ma qui viene fuori qui sì e viene fuori dall'opposizione del soggetto che non è una bestia da pascolo quindi non mangia l'erba in giro ma l'erba che cucina la zia è esattamente quella che si trova sui sentieri lei tendeva un'imboscata le tendeva un'imboscata e la metteva in padella cioè tendeva un'imboscata alla primavera e se la metteva in padella e ora i fiorellini mi chiamano food hunter food hunter c'è mica zia Caterina in giro creiamo la storia perché i fiori saremmo contenti di finire in padella tranquilli fiorellini zia Caterina se ne è andata da un pezzo e oggi l'insalata ce la portano dal centro commerciale eppure tutti quanti mangiavano la primavera alla tavola della zia per questo poi veniva un'altra stagione perché la primavera finiva diceva la mia sorellina con la bocca piena di fiori azzurri ecco perché veniva un'altra stagione non esiste la sorellina ma il racconto è immaginazione su una base di verità voi dovete inventare su una base di verità dovete raccontare dovete aggiungere non dovete falsificare la realtà quindi non dovete dire che le cose si cucinano in un certo modo quando si fanno in un altro deve essere scientifico ma viva Dio racconto si basa su una base naturalmente scientifica e poi voi create perché lo scopo qual è? ma lo scopo è portare dentro l'ascoltatore il lettore dentro questa storia fargli vivere questa storia ed è possibile farlo solo se si costruiscono delle relazioni come questa e voi che come me non mangiate più la primavera tavola ecco che voi la primavera vera non la mangiate più perché? perché l'insalata ve la portano al centro commerciale questa è la questione mi sapete dire quali fiori e erbe si possono gustare per fare che cosa? allora anziché spiegarglielo qua che gli citi tutti questi nomi anziché spiegarglielo chiediglielo avete in mente qualche piatto? ricordate qualche ricetta? anzi no più difficile ancora sapreste inventare piatti e ricette con i fiori e le erbe della primavera? e poi a seguire scrivete il vocabolario due citazioni suppline o quello che volete le potete anche inserire in nota non c'è nessun problema ma che cosa segue? qui segue un gioco segue un gioco nel quale il lettore che viene coinvolto e cerca di e se il gioco è troppo complicato cercherete di dare degli elementi al lettore naturalmente questo non so è un argomento che io non conosco questo non lo conosco minimamente ma come vedete non c'è bisogno di conoscere i contenuti che si devono trattare per divulgare non c'è nessun bisogno una volta appurato qual è l'apparato scientifico sopra bisogna costruire una storia che invoglia poi il soggetto anche a partecipare perché glielo devi spiegare tu tutto questo? perché delle due l'uno o tu ti rivolgi a un esperto allora togli il racconto togli tutto discutiamo tra esperti mettiamo in piazza le nostre idee le prove le controprove le tesi le antitesi e discutiamo è inutile scrivere un racconto ma se io voglio avvicinare delle persone che non si sono mai poste il problema di cucinare un'ortica e di fare un risotto con le ortiche al valore che ha la cucina oggi e la cucina allora il territorio e tutto il resto io devo raccontare non posso fare diversamente perché facendo a metà come in questo caso ottengo come risultato un bello zero quindi devo decisamente imboccare la via della poesia ma voi direte ma questo non è Emily Dickinson ma certo che non è Emily Dickinson non è poesia ma è qualche cosa però che va tende ad andare verso quella direzione capito come stanno le cose posso aggiungere una cosa un po' più specialista perché tu hai detto che se parlo con uno specialista parlerò di cose tecniche in realtà nella mia esperienza in un'azienda farmaceutica in realtà questo modo di raccontare si usa moltissimo anche tra specialisti cioè è una cosa che è entrata molto nell'usuale anche tra specialisti le aziende più grandi non presentano il prodotto presentano le persone dietro al prodotto esatto dei casi veri cercano di umanizzarli quanto più possibile creare delle storie esatto 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 è molto giusto quello che dice adesso ci avviamo verso la conclusione di oggi con due riferimenti e poi la questione emittente e ricevente allora emozioni e sentimenti voi avete visto il film Inside Out della Walt Disney se non l'avete visto guardatelo perché è veramente veramente carino è molto simpatico l'avete visto o non l'avete visto? sì 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 l'abbiamo visto l'avete visto chi no se lo deve andare a vedere lo può lo trova in giro da qualche parte su Netflix eccetera Walt Disney e così via allora perché vi parlo di questo e poi vi consegno anche questo gli avrete tra l'altro avrete questi schemi perché dovete fare un lavoro su questo i personaggi che governano il soggetto come si chiamava quella ragazza non mi ricordo comunque che governano Raleigh come come? Raleigh Raleigh ecco i soggetti interni a Raleigh esprimevano dei sentimenti delle emozioni e sono stati studiati molto attentamente dai disegnatori e questa è la tabella che la Pixar ha creato per la composizione dei personaggi cioè c'è stato uno studio molto particolare perché? ma perché il colore ha la sua percezione ovviamente quindi ecco che per esempio una sola tristezza è stata colorata di azzurro la gioia di giallo eccetera eccetera e le strade intermedie vedete le espressioni intermedie sono sempre una combinazione di questi due elementi che si incrociano e che danno luogo ad altre sfumature di colore perché è stato creato questo è stato creato questo per portare lo spettatore ad entrare dentro quello che viene chiamato il linguaggio cinematografico il mood cioè l'atmosfera l'ambiente la sensazione che tu hai nell'essere all'interno appunto di questo ambiente voi non ve ne accorgete perché non potete guardare il film puntando i colori perché seguite la storia naturalmente non vi concentrate sul modo con cui i colori sono trattati all'interno del film ma ogni dettaglio di questo film rappresenta una intersecazione di questi elementi nei diversi gradi appunto che la loro sfumatura rappresenta ed è stata studiata a tavolino con grande precisione infatti qui noi abbiamo una rappresentazione generale da un punto di vista psicologico della percezione del colore si chiama grading l'operazione attraverso il quale in sedi di montaggio video si crea il mood attraverso il colore si chiama grading questo è un libro che io ho scritto appunto su questi temi sul montaggio video la color correction il grading e questa è una scheda che tratta appunto da questo libro e che vedete vi mostra proprio molto bene come i colori vengono rappresentati per manifestare determinate sensazioni sentimenti ed emozioni rosso l'amore la passione violenza pericolo il rosa l'innocenza dolcezza femminilità questo è un codice che viene universalmente riconosciuto quindi quando voi avete a che fare con i colori e dovete stabilire qual è la tonalità per esempio dominante o per esempio gli accostamenti tra colori diversi voi fate riferimento a tabelle come questa e come questa ma per fare riferimento a queste tabelle voi prima dovete partire da una domanda quali sentimenti io voglio toccare esattamente quali sensazioni quali emozioni voglio tirar fuori questa è la domanda che vi dovete porre e attorno a questa domanda poi costruite la vostra storia e se la vostra storia ha a che fare con il colore con un mood che deve essere in qualche modo rappresentato beh allora utilizzate anche queste tabelle pensateci rifletteteci processo di comunicazione il processo di comunicazione è questo come diceva Loredana Lorena Laura come si chiamava come ti chiamavi non mi ricordo come ti chiamavi Alessandra scusa ah c'entra niente Alessandra allora l'emittente comunica con chi ascolta il ricevente un certo contenuto secondo modalità eccetera eccetera cioè è questo è emittente ricevente che poi è questo emittente ricevente la comunicazione emittente ricevente è lineare uno emette una comunicazione l'altro la riceve e la comunicazione invece parliamo di comunicazione ma parliamo di messaggi i messaggi i messaggi emittente ricevente sono lineari uno emette l'altro riceve poi se l'emittente deve diventare ricevente l'emittente diventerà ricevente cioè diventerà emittente a sua volta il ricevente e quindi emetterà un suo messaggio questa freccia tornerà indietro dall'altra parte sarà così tornerà indietro va bene poi dopo che è tornata indietro che cosa fa la freccia si risposta nell'altra direzione e così via ma una comunità narrante non è così la comunicazione all'interno di una comunità narrante è circolare facevamo un esempio qualche webinar fa a cui chiedevo qualcuno di voi se tornando a casa buttasse su delle slide per spiegare la sua giornata si parla si parla si racconta si interrompe e anche se tu in questo momento non interrompi il racconto ma tu sei già altrove perché stai già pensando a qualche cosa che si interseca con questo racconto emittente ricevente adesso dico una cosa forte poi la nostra collega lì si incazza di sicuro che è questa emittente ricevente è un processo autoritario pensato a Goebbels emittente ricevente Orwell emittente ricevente proprio per fare delle dicotomie e cercare di chiarirvi le idee con delle contrapposizioni narrazione è democratico è talmente democratico narrazione che io vi dico Frank entra Frank al bar della quinta strada sotto l'Empire State Building non so inventiamoci d'accordo al bar dell'Empire State Building prende un whisky allora voi magari siete stati a New York la conoscete benissimo sapete qual è il bar anche del coso ma ve lo immaginate in un modo diverso da quello che io ho immaginato scrivendolo e il vostro collega anche e il whisky che berrà Bruce non lo so cioè che cosa vi potete immaginare quello che volete anche all'interno di un film voi siete attratti il vostro immaginario riceve degli impulsi straordinari che lo portano anche se l'immagine è perfettamente codificata quindi il bar è quello eccetera eccetera però c'è un lavoro c'è un altro perché ci sono delle lissi tra un momento e l'altro delle interruzioni perché siete trasportati c'è la musica ci sono tante cose il racconto il racconto invece il processo comunicativo essenziale cioè io parlo tu ascolti fine della questione è un processo autoritario in un certo senso può essere anche piacevole vai ascolti ascolti per ora una bella cosa perfetto ma è un processo emittente ricevente non è un processo narrativo è diverso dal processo narrativo e il processo narrativo si basa su sentimenti ed emozioni il processo narrativo allora si basa su sentimenti e emozioni ma con questo rapporto il sentimento è ciò che domina perché perché il sentimento rappresenta una continuità nel tempo l'emozione è qualche cosa che si aggancia a un evento particolare apro la porta spavento chi c'è lì il sentimento invece è qualcosa di durevole nel tempo e quindi la narrazione fa uso di sentimenti che poi vengono intercalati da emozioni che naturalmente no cioè avete fatto una bella festa di compleanno tutti quelli qui presenti avranno fatto una festa di compleanno bella una da ricordare quelle emozioni sono delle emozioni che voi avete provato in quell'occasione poi vi ricorderete di queste emozioni ma i sentimenti che vi hanno legato agli amici e alle persone che hanno organizzato la festa per voi quelli rimangono rimangono o sono rimasti se nel frattempo sono mutati potrebbero anche essere mutati ma rimane il sentimento che sia di segno A o di segno B rimane la continuità di quel sentimento l'emozione invece no infatti quando voi avete una relazione con il vostro partner così cercate anche di proporre delle emozioni ma non potete emozionarlo tutto il giorno 24 ore a giorno per un luogo perché lo ritrovate in ospedale e ci va un bravo cardiologo e poi perché andate in ospedale pure voi perché lo stress e la fatica sono tali per cui e poi come si fa a vivere una vita di emozioni è impossibile però avete ecco la cena l'invito a cena il famoso invito a cena della collega che mi vuole invitare a cena che va benissimo non c'è problema può determinare un'emozione particolare ma quello che conta è il sentimento quindi ricordatevi il sentimento prolungato sapete l'amicizia l'odio è anche un sentimento chiaramente e e questo quindi per illustrarvi che voi avete sei sfide per sei giorni ma diciamo quelle fondamentali perché le altre sono importanti ma sono dei corollari quindi compila il tuo profilo tenendo conto di qualcosa di raccontare sapete il vostro profilo mettete un'immagine un'immagine non crei una storia se io non vedo chi sei un'immagine di te o qualche cosa che ti rappresenti e quindi va bene poi vi leggerete questo e poi avete tre sfide uno divulga lo stelvio poi due divulga lo stelvio ho mai sbagliato quindi la uno la uno è si intitola a piedi nudi nel parco ed è un esercizio del tipo di quello che vi ho presentato sul divieto poi la seconda sfida è lo stelvio divulga lo stelvio e qui leggerete poi che cosa vi viene chiesto e poi terzo racconta attraverso le sue emozioni e sentimenti so che è complesso e impegnativo potete anche naturalmente non buttarvi a capofitto su tutte e tre le sfide che vi vengono proposte potete anche scegliere potete anche guardare quello che fanno gli altri il corso resta su l'ambiente Gotham resta su fate quello che vi sentite nel modo in cui vi sentite giovedì sera invito personale a un mini webinar per vedere a che punto siete prendere quello che state facendo discutere parlarne scambiarci delle idee delle opinioni quindi mi metto a disposizione per aiutarvi nel vostro lavoro giovedì sera ma poi riceverete anche l'invito come al solito Alessandra ecco vedi che ho toccato quel punto non so se volevi dire appunto qualcosa eccomi no ho visto sì sì non sono ancora convinta ci dormirò su nel senso che quello che come dire guardando appunto le slide che riportavi a quello che dicevi mi sembra che più che come dire soffermarsi sulla parola comunicare e narrare e narrare che poi come dire come tutte le parole è la bellezza del linguaggio no che l'uso si trasformano no e quindi le accezioni sono mutevoli cangianti eccetera eccetera ma tu dicevi emittente ricevente mi sembra che in realtà quello che distingua i due termini sia sostanzialmente la forma cioè la forma che si dà all'inter all'interazione tu dici la comunicazione è autoritarismo no a mio avviso no assolutamente cioè proprio non la vedo in questo modo certo se la comunicazione non ammette per una serie chiaramente di come dire di come dire elementi contestuali una risposta cioè non permette che la forma come dire che quella freccia vada in entrambi i sensi allora sì c'è l'autoritarismo ma appunto la cosa bella della comunicazione è che è una interazione quindi quella freccia non è un da A a B ma è un cerchio è un processo no per me sì cioè la comunicazione è quello ma no ma non è ascolta Alessandro vabbè poi ognuno può avere le sue opinioni eccetera ma tu dove sbagli sbagli nel considerare tu usi il termine comunicare come un insieme nel quale è compreso tutto e invece no noi parliamo di messaggi il termine è di diffondere messaggi diciamo l'insieme è quello dei messaggi l'insieme dei messaggi come l'insieme non so dei numeri per dire si divide in due insiemi uno è quello della comunicazione e l'altro è quello della narrazione o della poesia cioè detto in termini tecnici uno è quello dei messaggi referenziali e l'altro è quello dei messaggi autoreferenziali la comunicazione fa parte dei messaggi referenziali e non è circolare uno comunica e l'altro riceve tu vai per strada e trovi senso vietato e basta il vigile ti dà una multa fine poi tu replichi puoi contestare ma dopo il meccanismo narrativo invece autoreferenziale non è un meccanismo di questo genere prima di tutto perché non ha niente da comunicare non ha un oggetto da comunicarti ripeto Leopardi parla della siepe ma la siepe non è l'oggetto della sua comunicazione invece segnale il senso vietato sì invece compra questo oggetto sì da dove nasce la tua confusione è una confusione deliberata proprio costruita d'arte che viene anche insegnata perché perché viviamo in un mondo nel quale il commercio è al primo posto e tutto deve essere ridotto a vendere o comprare qualcosa un business quindi la comunicazione la comunicazione emittente ricevente tradizionale che cosa fa? pesca dalla poesia pesca dai messaggi autoreferenziali e imbroglia ma proprio letteralmente imbroglia il cittadino no ma già questo lo diceva Baudelaire pensa un po' diceva che queste prime analisi derivano per esempio da Baudelaire da Paul Valery da grandi personaggi di questo poi sono stati riprese anche da Eco da tanti altri ma siamo è veramente un imbroglio il che non vuol dire che non sia bello anche vedere certe pubblicità non sia giusto comprare vendere delle cose assolutamente ci mancherebbe altro no non è una questione come dire politica o morale no è una constatazione di fatto nell'ambito nell'ambito dei messaggi che che vengono costruiti e la comunicazione risponde a questo ma non può rispondere a questo in modo nudo e crudo te la deve edulcorare la realtà deve innestare appunto che cosa della poesia lì dentro come spiegava bene anche c'era un'altra ragazza che era chiara forse che era intervenuta prima che parlava di emittente ricevente no sono io Ada 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 ecco che diceva appunto qualche cosa in questo senso ma l'equivoco parte proprio da questo che tu usi il termine comunicare come l'insieme di tutto ciò che viene detto raccontato filmato distribuito e non è così la comunicazione è un insieme è un insieme dei messaggi che noi conosciamo e la comunicazione è sono i messaggi autoreferenziali ma su questo c'è un problema perché c'è tutto un'ideologia c'è un'ideologia che viene costruita e insegnata per fare in modo che il consumatore che guarda che anche questo termine è veramente incredibile ma il consumatore il consumatore abbia l'idea di essere all'interno di un mondo che non è un mondo fatto di emittente ricevente comunicazione ma in realtà è quello mi sembra un po' limitato però pensare che allora se uno vede le cose diversamente è perché vittima cioè comunque la mia lettura è la lettura comunque di base dell'antropologia che appunto io non ho studi di comunicazione e altro nell'antropologia la comunicazione ovvero l'interazione tra le persone è come dire la base appunto su cui si reggono le società chiamala una cosa negativa chiamala l'autoritarismo senza la comunicazione non c'è società ma Alessandro ma non è comunicazione ascolta non è comunicazione la comunicazione è costruire un po' tra me e te no mi dispiace no le prime scusa tutto di antropologia i primi graffiti sulle rocce non hanno una rappresentazione referenziale ma sono autoreferenziali sono la rappresentazione di una caccia che deve essere propiziata quindi non è un messaggio comunicativo è un messaggio narrativo ed è giusto quello che tu dici le prime comunicazioni sono narrative certo perché non sono comunicazioni è narrazione la comunicazione c'è un errore se il tuo campo è l'antropologia gli antropologi fanno un errore e l'errore che fanno gli antropologi è utilizzare il termine comunicazione quando invece è narrazione ma questo errore è molto diffuso perché oggi il termine comunicazione viene utilizzato in tutti i campi sicuro io poi che lavoro con le agenzie pubblicitarie diventa tutto comunicazione hai comunicato questo dobbiamo comunicare capisco che siamo dentro un bombardamento di questo genere ma il mio scopo è riportarvi ai fondamentali e i fondamentali sono che la comunicazione è a un referente per oggetto e non ha niente a che fare con la narrazione e gli uomini giustamente si mettono in comunicazione tra loro nel senso che si parla in quel senso lì attraverso meccanismi di narrazione e non meccanismi ricevente trasmittente che è quello che dici tu ma io insisto sul lessico da utilizzare prova a non utilizzare più la parola comunicare come parola che raccoglie tutto quello che viene fatto beh non è vero perché il contesto di Hemingway non è una comunicazione il vecchio e il marion non è una comunicazione è un romanzo beh certo che io non è che usi comunicazione in tutto ma è il contesto che ti che dà il significato e la giusta sfumatura alla parola come l'immagine che hai fatto vedere all'inizio dei due snowboarder ovviamente tu dici è una pubblicità però dipende da qual è il contesto in cui ho visto per la prima volta quell'immagine chiaramente tu ci hai fatto presente che era utilizzata come pubblicità e quindi nel guardarla c'era come dire un bias iniziale e quindi la vedevamo in quel modo però io avrei anche potuto trovarla sulla bacheca Facebook non lo so di qualche amico che mi diceva che appunto in montagna aveva pensato a Emily Dickinson cioè sì però ecco fermiamoci qua però se tu avessi trovato queste immagini di un tuo amico su Facebook con le parole di Emily Dickinson io avrei posto due questioni uno se l'immagine c'era lui è un conto se c'era suo figlio un suo familiare è un conto ma se un'immagine che lui ha trovato e ha messo lì per illustrare i versi della Dickinson io avrei detto caro amico toglila perché non rappresenti i versi della Dickinson devi pensare devi riflettere non può essere tutto legittimo in questo campo perché se è tutto legittimo in questo campo tu uccidi la poesia quindi mi fai il santo favore di prendere quell'immagine e se proprio vuoi quella e almeno di rielaborarla di riconsiderarla perché non mi puoi appiccicare una cosa così a una poesia di Emily Dickinson ma perché oggi tutto viene accettato viene accettato perché tutto finisce nel calderone della comunicazione perché non ci sono più distinzioni noi dobbiamo imparare a distinguere noi viviamo in un mondo oggi dove tutto si interseca passi da Twitter a Facebook è libero ma è tutto veramente un grande calderone dove si comunica no bocce ferme bocce ferme distinguiamo le cose e recuperiamo il valore che poi è quello che dici tu che su quale sono perfettamente d'accordo che è il vero valore della relazione umana che non è una relazione utilitaristica è una relazione fra soggetti che esprimono dei sentimenti e delle emozioni ma per recuperare questo dobbiamo fare delle distinzioni e quello che dobbiamo insegnare ai giovani di generazione è proprio questo proprio questi ragazzi che pigliano le immagini le buttano su ci scrivono le frasi recuperano citazioni di qua e di là riempiono i social di cazzate è proprio questo che noi dobbiamo fare e questo è il nostro compito e per svolgere questo compito noi li dobbiamo aiutare a distinguere a separare ciò che è poesia diciamo nei due estremi ciò che è poesia dall'altro e vendita marketing dall'altra parte sono due cose che dobbiamo aumentare la sensibilità la percezione estetica anche perfino dobbiamo aiutarli a recuperare la poesia che c'è nel mondo se tu non fai questo per dare un esempio molto semplice poi porti in gita in esplorazione al tuo parco non lo so dove vai oppure non so Massimo Urso o Ivan eccetera portano una dozzina di ragazzi eccetera e questi poi danno un calcio di qui buttano la carta e dicono ah bello questo bello quell'altro ma non si rendono conto di essere all'interno di una poesia e se loro non se ne rendono conto e tu non gli crei la storia non gli crei l'accoglienza il benvenuto la narrazione eccetera tu non hai fatto niente hai solo insegnato i nomi di quattro piante che cosa succede ma ma questo voglio dire che importanza da un punto di vista del valore che l'umanità e l'ambiente hanno per la loro sopravvivenza e tutto il resto niente assolutamente zero perché se non c'è io dico la prima cosa un sentimento ma poi deve esserci una passione perché dobbiamo compiere ancora un ulteriore passo non mi basta che tu abbia un sentimento nei confronti della montagna io voglio che tu abbia una passione per quell'ortica che prendi e la prenderai in un certo modo con una certa cura per fare il tuo risotto perché è giusto che tu faccia il tuo risotto ma è anche giusto che tu non distrugga tutte le ortiche per farti i tuoi cazzo di risotti quindi io questo te lo devo insegnare non con delle slide una comunicazione io te lo devo insegnare sviluppando i sentimenti che ci sono esattamente come dice Alessandra i sentimenti ma non mi basta perché la mia pretesa è che la mia passione cioè quella che ho io per questa fetta di natura che sono le ortiche eccetera eccetera diventi anche la tua e se non diventa la tua diventa qualche cosa che tu dica però caspita non è la mia passione ma cavolo però qui c'è della roba qui dietro capite quello che vuol dire cioè qual è il senso di quello che stiamo facendo è questo e quindi il senso non è discutere sul valore di un termine o di un altro ma Alessandra fa benissimo ad avere le sue idee le sue opinioni ci mancherebbe altro però io devo insistere su questo terreno perché voglio farvi entrare in testa che divulgare non è dire guarda che questo si chiama così quello e quell'altro si usa questo si fa così non è questo non è questo divulgare è far sorgere la passione che c'è in te o almeno avere come obiettivo questo poi lungo questa strada ci sono vari gradi uno si può fermare anche prima chiaramente ma il tuo obiettivo non può non essere non essere questo e questo è un obiettivo che si ottiene solo se si mettono in gioco i sentimenti e quindi se si sviluppa una narrazione e la narrazione è sempre circolare io parlo Ivan mi interrompe c'è un'altra cosa Flavia entra cioè non esiste non è una comunicazione non è referenziale però quello che sto facendo va benissimo perché io non ho partecipato molto a Gotham insomma perché ho fatto altre cose perché sto facendo un lavoro con i miei ragazzi di prima sugli animali e quindi stiamo lavorando in questo modo stiamo narrando l'assemblea degli animali che si riuniscono in un posto che conoscevano oppure gli uomini non so se hai sentito parlare del libro l'assemblea degli animali e poi da lì allora ti consiglio di leggerlo perché è più bello dopodiché leggeremo i diritti degli animali e poi da lì leggeremo delle poesie che hanno come tematica la poesia gli animali e i bambini però tu sei un assassino matricolato tu sei una serial killer sei un perché questo non lo racconti non puoi venircelo a dire qui bella bella scusa si ma ero impegnatissima ero impegnatissima ma tu devi essere impegnata con noi con noi stavo preparando tutta questa cosa infatti però io non mi ritrovavo infatti ho detto ma io qua mi sono persa e poi però qualcuno mi ha risposto ma perché non parti dall'ortobotanico io sono partita dall'ortobotanico però io dicevo ma a me l'ortobotanico mi ricorda quando ho partecipato con il progetto tra i sindi e le signore che non erano mai andati mai non avevano mai visto l'ortobotanico di Palermo delle donne di un quartiere a disco con cui ho lavorato era la prima volta e sono venuti siamo andati insieme all'ortobotanico e loro sono rimasti meravigliati quindi io mi ricordavo quello che avevo vissuto ho scritto due cose però sempre non mi sono però mi sentivo persa va bene senti sei stata un po' sei stata un po' stitica con Gotham adesso aspettiamo aspettiamo da te i ricchi spunti cosa succederà? succede che il giocatore ti fa a pezzi se tu non intervieni dandoci le perle preziose di cui sei portatrice no? ok poi vi farò vedere il lavoro se vi esce se andrà tutto bene sì sì ma certo bene siccome siamo in chiusura avete qualche cosa altre osservazioni così domande idee spunti un dubbio che va ancora un problema che ve rode va bene allora se tutto ok buttiamo sulla registrazione e poi ci vediamo a Gotham prossimo appuntamento per chi vuole giovedì sera mini webinar per vedere un po' a che punto siete problemi dubbi incertezze stati d'ansia eccetera eccetera grazie a tutti buona serata grazie a tutti ciao 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 a tutti a che ora giovedì sera? mi sembra di 18.30 perfetto grazie ciao 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 a tutti ciao 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 a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti